Allora buongiorno a tutti, iniziamo i lavori in perfetto orario, sono le 10 di questa seconda giornata dove verranno presentati si entrerà più nel merito delle attività che vengono svolte nell'ambito del progetto PON in particolare oggi saranno protagonisti Oggi saranno protagonisti come interventi oltre ovviamente al Dipartimento di Protezione Civile che ha organizzato queste due giornate di workshop, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e con sei istituti che hanno vinto la gara per quanto riguarda la pericolosità sismica e vulcanica e un'associazione temporale di impresa capeggiata da Cima di cui fa parte anche di questa associazione fa parte anche un altro istituto CNR che è l'IRPI di Perugia. Quindi io direi per cercare di guadagnare un po' di tempo perché molta gente poi nel pomeriggio dovrà partire di iniziare subito i lavori e do la parola a Mario Nicoletti del Dipartimento di Protezione Civile che farà un'introduzione appunto ai lavori della giornata di oggi. Buongiorno a tutti, mi è molto gradito fare questa introduzione sia nella qualità di responsabile del procedimento del contratto di servizi che abbiamo con il CNR che gentilmente ci ospita poi in questo workshop sia nella mia qualità di dirigente del servizio rischiosissimo del Dipartimento di Protezione Civile. Il progetto del PON è molto importante e sicuramente avrà, secondo me, degli sviluppi e troverà delle sinergie all'interno del Dipartimento. Ed è su questo in particolare che io vorrei brevemente fare un cenno. Non è che ho delle slide, non ho preparato una presentazione, ma volevo fare un cenno a possibili sinergie del lavoro del PON con altre attività che si svolgono all'interno del Dipartimento, in particolare del servizio del rischio sismico da me diretto. Forse voi saprete che il Dipartimento di Protezione Civile realizza e gestisce due reti accelerometriche, la rete accelerometrica nazionale e l'osservatore sismico delle strutture dedicate rispettivamente al monitoraggio dello scuotimento al suolo e della risposta dinamica di edifici pubblici nelle zone sismiche. Queste reti hanno raggiunto un certo livello di maturità, ormai si parla di circa 600 stazioni delle reti accelerometriche nazionali e 162 sistemi di monitoraggio dinamico di edifici pubblici. In particolare si tratta di scuole, sono una settantina che tra poco diventeranno 77. Poi ci stanno un 20% di municipi, che quindi sono in genere anche sedi di cocche, già hanno una valenza di Protezione Civile più spinta. Ci stanno un 20% di ospedali o di edifici di edilizia sanitaria, che quindi hanno anch'essi una valenza per la gestione dell'emergenza. Poi abbiamo anche introdotto alcune strutture diverse, tipo alcuni ponti, ci sono sette ponti e cinque dighe. Quindi è una rete di monitoraggio strutturale che si sta estendendo progressivamente. Inoltre, quando c'è l'emergenza, quando c'è il terremoto, noi disponiamo nell'area centrale delle reti mobili. Nel disporre queste reti mobili, sia della RAN che dell'OSS, noi teniamo conto proprio di quali sono gli edifici più importanti per la gestione dell'emergenza. Quindi adesso, per esempio, a Rieti, dove io sono stato a lungo anche come referente della funzione di scensimento danni, quindi delle verifiche agibilità, contemporaneamente coordinavo la disposizione della RAN mobile, qui abbiamo distribuito 26 stazioni temporanee e l'OSS mobile, abbiamo monitorato la sede della Dicomac, dove noi stavamo, la prefettura di Rieti, il COM di Norcia, il COM di Arquata, del Tronto. Quindi eravamo in genere con queste reti mobili puntati proprio a edifici simili a quelli che nell'ambito della condizione limite d'emergenza si vanno a individuare nei contesti territoriali di cui si parlava ieri. L'idea quindi che mi è venuta è questa qua, ovviamente trovando le risorse finanziarie necessarie, arrivare a includere nella rete di monitoraggio sismico permanente gli edifici per i quali si farà lo studio di condizioni limite di emergenza nei vari contesti territoriali. In questo modo, quando ci sarà l'emergenza, noi avremo già un presidio di monitoraggio sismico su questi edifici e quindi potremo in qualche modo avere un contributo per tenerli sotto controllo, intanto per valutare la loro operatività non solo con lo studio che viene fatto con la CLE, ma anche proprio con un monitoraggio permanente, ma anche per queste altre attività. Quindi l'idea era quella di, considerando i 522 contesti territoriali di cui ci parlava ieri Fabrizio, di andare, qualora le regioni ovviamente abbiano consolidato la scelta di questi edifici, che come è stato detto devono essere uno, un edificio adibito a coordinamento diciamo delle attività emergenziali, un altro adibito a struttura operativa che diciamo aiuta nella gestione dell'emergenza e un altro di assistenza sanitaria. Una volta che questi edifici, le regioni le avranno individuate, potrebbero essere dotate di un sistema di monitoraggio a cura del Dipartimento di Protezione Civile. Questo ovviamente dovrebbe svilupparsi nel corso di alcuni anni perché ovviamente l'impegno è grosso, si parla di 1500 siti. In particolare poi voi saprete qual è la possibile valenza di un monitoraggio accelerometrio, questo mi è resaltato di dirlo, ma adesso se noi misuriamo lo scuotimento al suolo con la rete accelerometria nazionale noi siamo in grado di, con delle correlazioni, di stimare anche l'intensità mercalli e quindi valutare i possibili danni già sulla base dello scuotimento al suolo. Con il monitoraggio degli edifici poi noi abbiamo, diciamo in pratica come fossero un certo numero di edifici sentinella in cui io posso calcolare un parametro di danno effettivo elaborando i dati e quindi avere informazioni più attendibili. Ecco, quindi l'idea sarebbe quella quindi di sviluppare un monitoraggio al suolo su tutti gli edifici presenti di questi oggetto del studio di condizioni di emergenza nei 522 contesti territoriali. Quindi tutti questi edifici, il sito di questi edifici sarebbe monitorato a terra con un sensore tipo quello della RAN, della rete accelerometria, però magari con una tipologia un po' meno performante, un po' meno costosa in modo tale da diffondere al massimo il monitoraggio. Inoltre su un sottinsieme di questi edifici, adesso immaginando di dividere questo lavoro come pensavo io i moduli da 250 siti a volta, di questi 250, 60 sarebbero stati, sarebbero anche fatti oggetto in monitoraggio strutturale. Quindi oltre a mettere un sensore a terra nelle vicinanze dell'edificio in una pertinenza che in genere sono sempre presenti intorno all'edificio, ci sarebbero due accelerometri biassiali nel solaio di sommità dell'edificio e quindi sarebbe possibile ricostruire in termini globali la dinamica dell'edificio. La cosa molto importante è che nell'ambito dei studi della CLI e dell'Indice di Operabilità Stutturale noi abbiamo a disposizione di questi edifici moltissimi dati, moltissimi materiali, quindi c'è un approfondimento conoscitivo che viene fatto per il PON, per la condizione limite d'emergenza, ce lo ritroviamo anche a corredo di questi edifici che noi andiamo a monitorare. Quindi praticamente disponendo questi due sensori, che poi sarebbero dei sensori dotati anche del convertitore analogico digitale, di sistemi di trasmissione dati che comunicherebbero tra loro attraverso un collegamento wifi, noi riusciamo a dare idea della dinamica dell'edificio e siccome poi noi conosciamo in realtà le sue forme modali, le sue frequenze, perché le abbiamo studiate con la caratterizzazione dinamica nell'ambito della CLI e dell'OIOPS, noi quindi siamo in grado anche di determinare quale sarà stato per quel particolare evento l'effettivo impegno dei vari elementi strutturali. In particolare per approfondire questo tipo di studio noi prevediamo su una metà di questi edifici, quindi abbiamo detto 250 sono i siti, 60 sono gli edifici che vengono prescelti per il monitoraggio in questa prima fase e di questi 60 altri 30 sarebbero fatti oggetto di un ulteriore monitoraggio a un piano intermedio, in modo quindi da individuare con precisione sicuramente la forma del primo modo di vibrazione che è quello che impegna la maggior parte della massa partecipante nell'oscillazione dinamica. Quindi ecco, questo volevo accennarlo, diciamo che siamo in fase di studio di fattibilità di questo progetto e sicuramente può essere un contributo che il Dipartimento può dare per una migliore conoscenza del territorio e per la gestione dell'emergenza, nel senso che noi poi potremo anche durante, io l'ho visto in prima persona, noi stavamo nell'edificio della Dicomac che era monitorato e quindi man mano che si sono susseguiti le nove scosse più importanti di questo terremoto noi vedevamo quello che succedeva, eravamo in grado di valutare il livello di danno presunto e la situazione che, per fortuna, è rimasta sempre sotto controllo in quell'edificio. Ecco, dopo questo cenno io non vorrei rubare altro tempo perché abbiamo detto che dobbiamo mantenerci, diciamo, il più possibile nei tempi, quindi restituirei la parola al nostro moderatore. Grazie Mario, allora do la parola a Sergio Castanetto e poi a Massimiliano Moscatelli per l'illustrazione del programma sismico-vulcanico. Buongiorno a tutti, funziona. Allora, una breve presentazione che servirà, diciamo, fondamentalmente da introduzione un po' ai contenuti di questa giornata in cui entreremo un po' nel merito di quello che fino ad oggi è stato realizzato. Partiamo con quello che riguarda le tematiche relative al rischio sismico, passerò poi la parola al collega del CNR che, appunto, con questa parola un po' amministrativa all'operatore economico che, diciamo, ha sviluppato e sta lavorando sulla predisposizione dei prodotti appunto necessari a raggiungere gli obiettivi del PON. Volevo partire ricordando alcuni punti chiave di questa attività, anche perché credo che non tutti i presenti abbiano partecipato anche alla giornata di ieri, quindi forse vale la pena ricordare alcune questioni chiave relative al programma. Che cos'è il PON Governance? È appunto un programma di supporto al rafforzamento di quella capacità istituzionale di risposta nel momento in cui avviene un'emergenza di carattere sismico, idrogeologico, vulcanico e quindi fondamentalmente di riduzione del rischio a fini di protezione civile. Questo è il titolo del programma, del PON Governance, perché ovviamente esiste questa anche percentuale ulteriore di possibilità di riduzione del rischio nel momento in cui si interviene rendendo efficace anche l'intervento nella fase di emergenza. Il Dipartimento della protezione civile è il soggetto attuatore del programma grazie ad una convenzione che è stata stipulata con l'Agenzia della coesione territoriale che gestisce i fondi appunto europei del PON Governance e le regioni attualmente interessate sono appunto la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Sicilia e la Calabria. Cosa non è, in maniera molto schematica, quindi non è sicuramente un programma che finanzia interventi strutturali, quindi interventi diretti effettivamente a ridurre la vulnerabilità o territoriale o delle strutture presenti sul territorio per finalità appunto di riduzione del rischio, né diciamo attraverso gli operatori economici, il personale che è stato diciamo contrattualizzato viene reso disponibile alle regioni per fare delle attività diciamo sostitutive in un certo senso o a quelle che sono le attività di competenza delle regioni, ma hanno un compito specifico che poi scoprirete bene nel momento in cui nella parte diciamo di intervento che seguirà da parte del collega Massigliano-Moscatelli e quindi di conseguenza appunto non vengono realizzate attraverso il Pongover attività che sono di specifica competenza appunto delle regioni. Quali sono gli obiettivi generali? Abbiamo detto rafforzare quella capacità istituzionale appunto di risposta da parte delle regioni al momento in cui avviene un'emergenza, quindi la riduzione del rischio a fine di protezione civile e questo attraverso il raggiungimento di standard minimi che devono essere diciamo garantiti sul territorio. Standard minimi è che si raggiungono attraverso un percorso, un percorso di programmazione appunto di interventi per la riduzione dei rischi a fine di protezione civile ma anche di resilienza socio-economica del territorio ed è anche uno dei motivi per cui ieri se ne è parlato a lungo dei contesti territoriali, cioè di questi ambiti scelti e definiti partendo proprio da considerazioni legate alle caratteristiche socio-economiche del territorio perché poi è un valore aggiunto che si può dare nel momento in cui si raggiuna su questi ambiti territoriali, è un valore aggiunto essere partiti da queste considerazioni di carattere socio-economica se si vuole ragionare anche in termini di resilienza poi di quel territorio. Il documento di riferimento appunto sono questi standard minimi, documento approvato dal Dipartimento dell'Agenzia per la coesione nel dicembre del 2015 e questo percorso appunto tracciato all'interno di questi standard minimi costituisce quello che abbiamo definito progetto standard. Progetto standard che cos'è? Non è altro che fondamentalmente razionalizzare e mettere a profitto un percorso che comunque è già iniziato da alcuni anni nel rapporto tra istituzioni centrali, quindi sostanzialmente Dipartimento della Protezione Civile, Regioni e gli altri soggetti in qualche modo coinvolti nelle tematiche di riduzione del rischio. Qui vedete elencati alcune step diciamo di attività che sono state avviate in questi anni, prima tra tutte appunto l'approvazione e l'adozione di indirizzo e criteri per gli studi di microzonazione sismica, stiamo parlando del 2008, successivamente il programma diciamo di realizzazione di caratterizzazione sismi del territorio di altri interventi finalizzati sempre al miglioramento sismico delle strutture pubbliche e private attraverso i fondi della cosiddetta legge Abruzzo, l'articolo 11 appunto della legge Abruzzo e altre attività come ad esempio la sperimentazione di valutazione sull'operatività strutturale di edifici, anche in questo caso portata avanti in questi anni attraverso delle collaborazioni con alcune Regioni. Io vorrei partire proprio da questa ultima considerazione, cioè in qualche modo questo programma PON Governance è un po' figlio delle attività appunto che sono già state sviluppate in questi anni, prima e fra tutte sicuramente l'attività finanziata con questo piano di prevenzione del rischio sismico dell'articolo 11 della legge Abruzzo che tra i vari interventi, come ho detto anche interventi legati anche al miglioramento dell'edilizia pubblica e privata, ha previsto anche un approfondito studio e caratterizzazione del comportamento sismico del territorio a scala comunale appunto gli studi di microzonazione sismica. Un piano che ha avuto degli elementi sicuramente di novità particolarmente importanti come aver previsto ad esempio la programmazione pluriannale che ha consentito quindi attraverso un rapporto anche stretto con le Regioni di definire dei programmi che in questi anni si sono sviluppati e hanno portato diciamo a dei risultati che adesso vi farò vedere. Sette annualità, siamo arrivati all'ultima annualità, finanziamenti regolati attraverso ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, complessivamente solo per le attività di microzonazione e di analisi della condizione limite per l'emergenza sono stati utilizzati oltre 100 milioni di euro. Microzonazione sismica appunto che ha rappresentato un passo avanti fondamentale e importante nella definizione appunto del comportamento del territorio in caso di terremoto e soprattutto portando a raggiungere dei risultati importanti dal punto di vista della standardizzazione e omogenizzazione degli studi e degli approcci a livello nazionale. E' importante poi l'introduzione dell'analisi della condizione limite per l'emergenza, ossia dell'analisi di quegli elementi utili a capire qual è il limite che non deve essere superato per poter garantire comunque un intervento efficace in caso di emergenza, nonostante si siano interrotte tutta una serie di funzioni che caratterizzano gli insediamenti urbani. Vedete qui a sinistra una piccola informazione, questa cartografia di microzonazione sismica è relativa al comune di Fivizzano ed è il risultato di un'attività svolta con la regione toscana e il volume che contiene poi i risultati di questa attività sono ormai stati chiusi, definite e pronto sostanzialmente il pdf del volume e qui sotto c'è l'indirizzo nel quale è possibile scaricare il pdf del volume che contiene al di là dei risultati specifici per il centro abitato di Fivizzano, una serie di informazioni metodologiche sulle modalità con cui si è sviluppato e portato avanti questo studio relativo al centro toscano. Quali sono i risultati raggiunti ad oggi? Mi dilungo un po' su questo aspetto perché appunto come vi ho detto fondamentalmente il Pong Governance è un po' la, come posso dire, la prosecuzione, la valorizzazione di tutto questo patrimonio di conoscenze che si è accumulato in questi anni e che avrà appunto degli sviluppi anche attraverso proprio il Pong Governance. Vedete le due rappresentazioni del territorio che sono ad oggi programmati o nei quali sono stati anche già realizzati studi di microzonazione di Celle e come vedete ad oggi abbiamo circa 3.600 studi di microzonazione sismica finanziati. Tenete conto che il programma prevedeva il finanziamento solo ai comuni che avessero una pericolosità diciamo medio elevata, quindi sopra 0,125g come pericolosità di base e quindi siamo sull'ordine dei 4.000 comuni circa o meno e quindi diciamo ormai abbiamo un'ottima copertura. Di questi diciamo che circa il 60% oltre 2.000 sono già stati consegnati dalle regioni. Anche per la Celle come vedete abbiamo circa 3.200 analisi finanziate e circa un 45% o poco meno di analisi consegnate. Ribadisco che uno dei risultati molto importanti raggiunti con questa attività è stato anche quello di aver ottenuto una metodologia e l'adozione di metodologie di studio, di rappresentazione e di archiviazione dei dati che sono ormai omogenei e standard su tutto il territorio nazionale. Quindi questa rappresentazione di studi sul territorio vuol dire che qualunque studio di qualunque macchiolina di colore dalla Val d'Ossa alla Sicilia se andassimo ad aprire uno di questi studi avremmo diciamo delle cartografie delle modalità di rappresentazione che sono assolutamente identiche e quindi questo consente confronti, consente la condivisione delle informazioni. In che modo la microzonazione e quelle che invece sono delle analisi legate alle modalità con cui viene pianificato l'intervento in emergenza possono integrarsi e dare dei risultati e delle informazioni importanti per la riduzione dei rischi affini di protezione civile, cioè rendere più efficace e più sicuro l'intervento in fase di emergenza. Qui vedete la sovrapposizione delle informazioni che provengono dagli studi di microzonazione sismica e dalle analisi della CLE. Su un campione di circa un migliaio di microzonazioni e CLE che sono state appunto esaminate dalla Commissione Tecnica Nazionale che ha appunto questo compito di monitorare e di supportare la realizzazione degli studi di microzonazione e CLE. Qui vedete come risulti che una percentuale consistente di elementi che sono fondamentali nel momento in cui avviene un'emergenza, parliamo sempre gli elementi analizzati dalla CLE, quindi gli elementi strutturali ovviamente dei piani di emergenza comunali. Come vedete edifici strategici o aree di emergenza o infrastrutture di collegamento o di accessibilità a questi centri sono poste su quelle che sono identificate negli studi di microzonazione sismica come aree instabili. Un 20% di edifici strategici ricadono in aree instabili per vari motivi, parliamo di instabilità cosismiche ovviamente come vedete sono o frane o liquefazioni fondamentalmente, sono le due tipologie di fenomenologie cosismiche più diffuse sul territorio nazionale o una percentuale simile di aree di emergenza, circa anche in questo caso un 20% sono posizionate su aree che negli studi di microzonazione e sismica hanno identificato come aree instabili. Per non parlare poi delle infrastrutture che ovviamente sono, poi si vedrà meglio oggi negli interventi che seguiranno, come le infrastrutture di connessione e di accessibilità siano effettivamente uno degli elementi deboli nel momento in cui si fa la pianificazione di emergenza. L'obiettivo quindi a partire da tutta questa base di conoscenze, di informazioni che sono state diciamo in questi anni raccolte e che stanno tra l'altro proseguendo ovviamente come attività, da tutto questo l'obiettivo è quello di arrivare a definire un'operatività in quelli che sono questi ambiti territoriali come sono stati descritti e definiti ieri appunto i contesti territoriali, ne parleremo ulteriormente oggi, un'operatività diciamo del sistema andando quindi a oltre quelle che sono i limiti comunali e quindi quello che fino ad oggi era stato analizzato con l'analisi della Celle e andando ad analizzare dei contesti diciamo sovracomunali nei quali debba essere diciamo garantita la funzionalità e l'efficienza del sistema. Le attività, anche qui ripeto alcune cose diciamo di sintesi del come funziona il programma, sono fondamentalmente di due tipi, attività che abbiamo definito come attività A, cioè attività fondamentalmente che hanno come obiettivo dei fini delle metodologie, delle linee guida, degli indirizzi che servono appunto una volta adottati a migliorare la risposta istituzionale su queste problematiche e un'altra attività che sono attività invece di affiancamento alle regioni che sono fondamentalmente il supporto e il monitoraggio di come sta andando la costruzione di quel progetto standard che abbiamo detto, cioè di quel percorso di adozione di indirizzi e linee guida che consente di rendere efficace da parte delle regioni l'intervento e l'affiancamento anche per una corretta applicazione di tutti questi documenti che vengono costruiti appunto per migliorare la risposta istituzionale. Questa è schematicamente come sarà strutturato l'organizzazione del progetto, abbiamo una struttura responsabile del programma che è appunto il Dipartimento che si interfaccia con una commissione tecnica che ha il compito di garantire il partenariato del progetto e abbiamo appunto una struttura tecnica che è composta sia dal Dipartimento della Protezione Civile che da componenti dell'operatore economico che nel caso del rischio sismico è il CNR IGAG, abbiamo da parte dell'operatore economico la disponibilità di unità operative per ciascuna delle regioni che abbiamo detto sono l'oggetto del congovernance. A loro volta le regioni hanno costituito ciascuna una struttura, un gruppo di lavoro regionale con un referente delle unità operative locali. complessivamente appunto come vedete dai numeri abbiamo circa 140 persone che in qualche modo operatori che sono coinvolti nella realizzazione del progetto e che garantiscono quindi le attività che abbiamo descritto. Sto per chiudere il mio intervento. Come funziona materialmente il nostro Pongovernance? Funziona attraverso un percorso suddiviso su fasi, qui vedete già indicate come fasi quelle che sono le problematiche che sono particolari affrontate nell'ambito del Pongovernance rischio sismico e vulcanico, cioè la parte appunto come vedete di individuazione dei fabbisogni, quindi dei contesti territoriali, la parte pericolosità, nel nostro caso microzonazione sismica, i piani che sono fondamentalmente analisi della CL, detto ovviamente questo molto in sintesi, cioè molto di più ovviamente dietro, le valutazioni di operatività fino alla programmazione degli interventi. Qui vedete una classificazione che in qualche maniera ricorda quella energetica, delle classi diciamo migliori a quelle diciamo che sono in una fase iniziale del loro percorso. Questo schema in qualche modo riprende anche in questo caso una modalità di classificazione dello stato dell'arte che era stata introdotta in una delle ultime ordinanze dell'articolo 11, la 293, in cui appunto si era cominciato a ragionare in questi termini, cioè a come poter attribuire a ciascun territorio comunale, una sorta di classe di qualche maniera di raggiungimento di certi standard relativi alla conoscenza e a ciò che era stato portato avanti. Questo approccio è stato mutuato all'interno del Bon Governance appunto anche in questo caso andando quindi a poter classificare lo stato dell'arte in funzione appunto del punto in cui si è arrivati nell'ambito del percorso previsto. Cosa vedremo tra breve? Vedremo fondamentalmente degli interventi che riguardano le modalità con cui dalla condizione limite per l'emergenza si passa ai contesti territoriali, quindi nel modo in cui diciamo si identificano gli elementi utili nell'ambito del contesto territoriale per le finalità appunto di definizione del funzionamento del sistema appunto di gestione dell'emergenza, vedremo anche delle metodologie che servono per definire l'operatività del contesto territoriale e delle metodologie per l'operatività degli edifici. Una cosa importante da sottolineare è che ovviamente oggi non andremo a presentare i prodotti finali già utilizzabili. Quello che vedrete sarà uno stato dell'arte di alcune tematiche che sono state portate avanti in questo anno di lavoro che hanno già portato a dei risultati, sono tutte oggetti, metodologie, programmi che sono ovviamente in una fase ancora di sviluppo e che necessitano ancora di sperimentazione, che ovviamente dovranno essere portati anche ad una valutazione da parte della comunità scientifica. Però riteniamo che sia al di là degli aspetti contrattuali, perché ovviamente il Bon Governance prevede delle consegne, quindi è naturale che ci siano stati degli stati di avanzamento delle consegne, dei report che ovviamente rendono conto dell'attività di ciò che è stato svolto e realizzato. Credo che quello che era importante, uno degli obiettivi anche di questa giornata è quello di cominciare diciamo a ragionare anche insieme a condividere un percorso e dei risultati che in qualche maniera si stanno costruendo e rendervi quindi anche conto di quello che appunto come vi dicevo è stato fatto. Nella penna che vi è stata anche distribuita troverete molti di questi materiali, avrete quindi modo poi di approfondire meglio e di vedere con più calma appunto i temi che sono stati sviluppati che saranno trattati in questa mattinata. Io a questo punto lascerei la parola al collega Massimiliano Moscatelli che invece entrerà più nel merito proprio di quello che è stato il ruolo del CNRI che in questo caso è l'operatore economico nello sviluppo appunto delle attività. Buongiorno a tutti, sono l'operatore economico, sono il referente per il progetto, una piccola precitazione, mi taglia in colla delle slide quando prepariamo presentazioni comuni, a volte capita che alcune cose sviluppano. Il progetto per quanto riguarda attività sismica e vulcanica è realizzato attraverso l'intero CNR, quindi l'operatore economico che lavora nell'ambito delle attività ponsismico, vulcanico e il CNR nel complesso. Infatti coinvolge già in origine tantissimi diversi istituti del CNR, tre dipartimenti del CNR stesso, sia il dipartimento dell'ambiente che ovviamente ha il maggior numero di istituti, ma anche il dipartimento di economia e il dipartimento di strutture. Ovviamente spendo delle parole adesso per questa parte perché poi vedrete dei risultati in cui probabilmente l'attività di chi ha lavorato sarà messa ovviamente in evidenza ma non attraverso chi poi ha realizzato nella realtà il lavoro. Per realizzare questo progetto abbiamo messo su una squadra costituita da una trentina di persone con diverse professionalità, ovviamente multidisciplinare perché questo è quello che richiedeva il progetto. Attualmente la squadra è abbastanza complessa, è costituita da pari numero ad oggi di geologi e ingegneri, architetti, pianificatori, economisti e fisici. Queste persone si occupano a vario modo, qui le vedete organizzate per professionalità, ma poi nelle attività di progetto sono strutturate per gruppi, c'è la parte geo costituita da geologi e ingegneri geotecnici, la parte che si occupa della pianificazione e dei sistemi informativi, la parte che si occupa della vulnerabilità con gli ingegneri strutturisti e poi abbiamo chi si occupa della valutazione della realizzazione degli indicatori socio-economici e della valutazione dei sistemi complessi perché vedremo soprattutto probabilmente nei risultati del prossimo anno l'obiettivo è quello di procedere nelle attività lavorando anche sulle cellule di resilienza che stiamo lavorando, che adesso vedrete che per noi sono i contesti territoriali. Ovviamente tutto questo è stato realizzato anche in collaborazione con soggetti esterni che hanno supportato il CNR, in particolare il professor Catalano dell'Università di Catania per quanto riguarda l'aggiornamento dei standard dell'ineguida per la microdesonazione in ambiente vulcanico, il professor Fagliaroli e Alessandro che vedo e saluto per quanto riguarda la densificazione sismoindotta alias cedimenti differenziali e il professor Zoboli per la parte economica e poi abbiamo un panel di revisori che a vario titolo si occupano della revisione dei documenti che noi produciamo per il Dipartimento in relazione alle varie discipline, alcuni li vedo, vedo Paolo e altri che saluto. Quindi una struttura molto complessa, la nostra sede è una sede dedicata al PON, abbiamo un edificio dedicato a Montelibretti, una struttura, ogni collega ha a disposizione un posto di lavoro, ci vediamo periodicamente, abbiamo una struttura di organizzazione, una collaborazione continua, uno scambio continuo con i referenti del Dipartimento e tutto quello che è stato realizzato quest'anno è quello che vedrete nelle prossime tre presentazioni. Utilizzo tutta una serie di indicazioni che ha già dato Sergio, in particolare mi è molto utile la suddivisione in fasi che avete già visto, questa suddivisione in fasi in qualche modo ha scandito anche l'organizzazione del nostro lavoro. Come dicevo abbiamo diversi gruppi multidisciplinari che lavorano sui diversi argomenti. Ovviamente una delle prime cose, dei primi problemi che abbiamo affrontato e che ha portato ai risultati che ha presentato già ieri Fabrizio e che vedremo dopo è quella dell'individuazione dei contesti territoriali. Abbiamo individuato i nostri contenitori dal punto di vista geometrico, anche dal punto di vista dei contenuti, abbiamo fatto uno sforzo di individuare gli elementi che costituiscono i contesti territoriali dal punto di vista della struttura minima di gestione dell'emergenza. Mi preme dare delle definizioni perché probabilmente poi le rivedrete, ma Sergio ha fatto la prefazione, io faccio l'abstract di questa mattina, alcune di queste cose sono utili poi per capire quello che vedrete successivamente. Un contesto territoriale è una definizione veramente preliminare e generale, scusatemi, potrebbe sembrare banale, ma è molto utile darla. Per noi in questo momento è definita come un insieme di comuni limitrofi che cooperano sul tema della riduzione del rischio nei quali le attività possono essere esercitate in modo unitario. Avete già visto ieri la presentazione di Fabrizio, vedete a destra nella slide un esempio schematico di rappresentazione di un contesto territoriale. Uno degli elementi caratterizzanti del contesto è il comune di riferimento. Comune di riferimento che è un elemento principale poi nel processo di selezione degli elementi strutturali del contesto territoriale, che può essere identificato come una realtà urbana di riferimento per il contesto al quale appartiene e che assume un carattere prioritario anche e soprattutto ai fini della programmazione degli interventi. Vedrete poi nelle prossime presentazioni dei risultati specifici su questo argomento. Questa attività ha trovato già nel 2018 un'uscita con la realizzazione delle linee guida per l'individuazione dei contesti territoriali e c'è un esercizio all'interno che abbiamo visto già ieri, anche un tentativo di realizzazione dei contesti anche nelle altre regioni. Ovviamente è un esercizio preliminare. C'è poi tutta la parte probabilmente che ci ha visto impegnati in questi anni come gruppi di ricerca. Tutti i colleghi che collaborano con noi al centro di microzonazione sismica probabilmente si riconoscono soprattutto in questa fase 2. Forse Sergio l'ha già detto mi preme dirlo. Queste fasi si chiamano fasi, sono delle attività ovviamente nelle regioni ma anche nella realtà procedono in parallelo in termini di realizzazione. Alcune partono prima, altre dopo. Lavorandoci siamo accorti che alcune fasi successive era necessaria attivarle subito. Questa parte, la fase 2, studi di microzonazione sismica, cioè la parte relativa della pericolosità è una parte estremamente consolidata, come abbiamo visto. Ci sono degli elementi ancora da realizzare e da condividere con la comunità scientifica, con le regioni in particolare. Ci siamo occupati in questo anno di andare a chiudere due elementi ancora da realizzare. Uno sono le instabilità sismo indotte. Quello che vedete c'è di menti differenziali, vedete in alto a destra la pagina della bozza di linea guida, che è stata rinominata densificazione sismo indotta. E poi c'è l'integrazione importante per la realizzazione delle carte di microzonazione sismica in aree vulcaniche. In questo momento si sta avviando la microzonazione sismica in Sicilia ed è stata avviata in Campania in modo intenso sono molto importanti. E qui a destra vedete, tutte queste documenti di cui vi parlo, li potete incominciare, non sono ancora disponibili ovviamente questi, ma quelli già realizzati e disponibili per la comunità tecnica e scientifica li potete scaricare dal sito del centro di microzonazione sismica, vedete le link. E vedete un screenshot di una cosa molto importante che sarà disponibile prossimamente, che è questo portale, il portale in cui saranno messi a disposizione della comunità gli studi di microzonazione sismica, che è WebMS e CLA. Vado avanti rapidamente, un altro elemento, un'altra attività su cui si è lavorato, è quello che diceva Sergio, è l'analisi della CLA, intesa come condizioni limite per l'emergenza del contesto territoriale, è stata definita una linea guida per la selezione degli elementi del contesto. L'obiettivo era individuare e verificare gli elementi strutturali minimi necessari per la gestione dell'emergenza, quindi la CLA di contesto, e definire il grafo del sistema da sottoporre poi alla valutazione dell'operatività strutturale che vedrete. Questa valutazione dell'operatività strutturale del contesto serve, come abbiamo già visto anche ieri, a definire le priorità di intervento tra i contesti territoriali e nel singolo contesto, supportare la programmazione degli interventi, valutare anche i benefici esterni rispetto alle attività associate al PON governance e ovviamente è per noi, per come viene stato pensato, un misuratore di performance. Come si calcola lo vedremo, si calcola con una metodologia probabilistica a molti livello attraverso un software che è stato realizzato ad hoc e fornisce un indice di operatività generale, vedrete un esempio di rappresentazione che avete già visto ieri per certi contesti, ma dà anche l'incidenza del singolo componente nel strutturale sull'operatività del sistema e anche in questo caso vedrete una presentazione dedicata. Questa parte è ovviamente la parte più complessa del progetto, tutti quelli che lavorano alle attività dei diversi gruppi lavorano anche e soprattutto in questa parte, vedete una sorta di flusso che costituisce gli elementi componenti principali di quello che è l'algoritmo che valuta l'operatività del contesto territoriale, ovviamente c'è quello di cui ho già parlato, cioè la selezione degli elementi esposti, quello che abbiamo visto nella fase 3, c'è la parte di valutazione delle componenti strutturali con la definizione della pericolosità e della vulnerabilità e poi c'è la parte su cui stiamo iniziando a lavorare e su cui inizieremo a lavorare quest'anno, che è la parte delle componenti non strutturali. Come vi dicevo è uno strumento multilivello che permette di dare immediatamente una valutazione dell'operatività dei sistemi, per questo abbiamo utilizzato un approccio multilivello che permette di, con un approccio semplificato e un approccio avanzato, per la sua realizzazione, qui vedete le diverse declinazioni nell'ambito dei diversi tipi di componenti, abbiamo utilizzato anche strumenti già disponibili e consolidati nella letteratura, lì vedete indicato il programma Azus, alcune cose sono state realizzate all'interno del progetto, alcune cose sono ancora da realizzare. Stessa cosa per quanto riguarda la parte di vulnerabilità, vedete anche qui c'è il concetto di riuso, abbiamo riutilizzato ovviamente quanto fosse già consolidato in letteratura, ad esempio per l'approccio semplificato, i risultati del progetto Synergy, alcuni tipi di strumenti che erano stati realizzati in altri progetti sviluppati da noi per il Dipartimento come SMAV e IOPS e alcune cose vengono attualmente realizzate e saranno realizzate nei prossimi anni. Ovviamente la fase 5, la fase di programmazione degli interventi, non è stata ancora avviata, viene da sé. Questa era la fotografia, qui vedete abbiamo integrato anche la Basilicata, questa è la fotografia di quello che è stata la situazione all'inizio del progetto in termini di attuazione delle diverse fasi. Nel 2018 alcuni rossi sono diventati gialli, questo è uno dei risultati dell'affiancamento ovviamente presso le regioni, tutta una serie di attività è iniziata, ovviamente arrivare a conclusioni delle diverse attività è praticamente impossibile in un anno, ci aspettiamo di fare del nostro meglio per affiancare le regioni nei prossimi anni e far diventare colori più verdi e gialli. Io chiudo, ovviamente ringraziando tutti, qui vedete rappresentati tutti quelli che partecipano al progetto, il nostro amato Colophon nella versione del 25 gennaio. Passo la parola ai prossimi relatori perché andranno molto più nel dettaglio sulle diverse attività. Grazie mille. Grazie Sergio e Massimiliano, adesso passo la parola al Fabrizio Bramerini e Francesco Fazio, Bramerini del Dipartimento di Protezione Civile e Francesco Fazio del CNRIG, per l'approfondimento sui rapporti tra contesti territoriali e le condizioni limite dell'emergenza. Grazie, una brevissima introduzione. Solo per dire questo, non sfuggirà la strategicità di questo passaggio. Qua si parte dicendo quali sono le linee guida per andare a individuare gli oggetti fisici, stiamo parlando di operatività strutturale, per cui l'input per poi andare a lavorare in termini di valutazione di operatività è di fondamentale importanza, cioè definire su che cosa si va a lavorare. Allora, da una parte c'è stato sicuramente un riferimento diciamo normativo, all'interno delle ordinanze di attuazione dell'articolo 11, già se non sbaglio nell'articolo 22, si andavano a definire quali erano gli edifici fondamentali nel momento in cui si andasse a lavorare su entità aggregate, cioè non solo il comune, ma appunto qualcosa di unitario più grande. Là all'epoca non si parlava ancora né di contesti territoriali, non si poteva parlare di, men che mai, di ambiti ottimali e via di seguito, però già si diceva, attenzione, che in un contesto più ampio bisogna andare a definire quelle che sono le funzioni fondamentali che debbono sempre funzionare a fronte di un'emergenza. E erano quelle tre che vengono identificate con il coordinamento dell'emergenza, con il soccorso sanitario e con l'intervento operativo. E poi tutte queste cose dovevano essere un po' normate in qualche modo. Questa linea guida, il tentativo di questa linea guida è di andare a definire quali sono tutti gli elementi strutturali, attenzione, che debbono essere valutati all'interno di un contesto territoriale, comunque definito. Per cui è uno snodo molto, noi riteniamo che sia stato molto importante. Ho già finito, perché poi vedrete nella sinteticità e forse nello schematismo della linea guida, non vi confondete, non è stata una cosa fatta in pochissimo tempo, anche perché la procedura di lavoro è stata, come dire, con processi di feedback abbastanza lunghi. Nel senso che da una parte c'era chi andava a lavorare sulla modellazione di OCT e perciò dell'indice di operatività. Dall'altro c'era chi già lo applicava a livello regionale, in questo caso su due contesti sperimentali della Calabria, Cariati e Ciro Marina, in cui si andava subito a verificare che cosa succedeva per capire sperimentalmente quali erano le criticità. Dall'altra il gruppo di lavoro dei pianificatori che incominciava a mettere giù quali erano gli elementi fondamentali che dovevano definire questi oggetti e quali erano i requisiti a cui dovevano sottostare. Tutto questo che poggiava su un qualche cosa, per fortuna, standardizzato e normato, la CLE. Però con buchi, perché non tutto il mondo è perfetto e per cui si è dovuto lavorare anche su queste cose. E adesso ve le spiega Francesco Fazio che sarà sinteticissimo come la stessa linea guida. Grazie. Cercherò di illustrare in sintesi quali sono stati i criteri e le fasi che hanno condotto a individuare questa linea guida che si situa, come è stato già detto, all'interno della terza fase in cui è stato articolato il progetto. Quindi nella fase in cui è necessario definire dei criteri generali per l'individuazione di quali elementi sono ritenuti indispensabili all'interno del contesto territoriale per la gestione dell'emergenza. Gli obiettivi di questa attività, che è stata, come è stato appena detto, l'esito di un lavoro, di un gruppo piuttosto nutrito di persone, sia di pianificatori che di altre competenze, sono quelli di individuare gli elementi strutturali minimi necessari per la gestione dell'emergenza a scala di contesto territoriale. Questo insieme di elementi in maniera molto sintetica è stata definita condizione limite per l'emergenza del contesto territoriale. Si tratta di un'espressione che ha un valore di riferimento generale, non letterale, perché, come è noto, la condizione limite per l'emergenza, lo stato attuale, a livello normativo, è definita solo a livello comunale. L'ulteriore obiettivo, oltre a definire questi elementi, è quello di fornire appunto il grafo del sistema, degli elementi strutturali indispensabili per la gestione dell'emergenza di contesto, che devono essere poi valutati nel loro insieme attraverso l'indice di operatività del contesto territoriale. Le fasi essenziali di articolazione della procedura sono due, una di identificazione degli elementi e l'altra di verifica dei requisiti che questi elementi debbono possedere. La scelta di fondo è stata quella di partire dall'esistente, quindi quella di mettere a sistema le conoscenze e i dati già disponibili, che sono evidentemente in questo frangente le analisi delle condizioni limite di emergenza di livello comunale. Di conseguenza la prima battuta del processo che è stato definito nelle sue articolazioni è quella di una selezione degli elementi che fanno parte delle cille comunali. È opportuno sottolineare che si tratta appunto di una selezione e verifica e non di un progetto. Con questa procedura non viene definito un sistema ideale di gestione dell'emergenza a scala di contesto, ma vengono verificati, individuati gli elementi fondamentali esistenti che già possono fornire un contributo per la risposta dal punto di vista degli elementi strutturali alla gestione dell'emergenza. Sono elementi strutturali, quindi non sono considerati all'interno del sistema altri aspetti pur fondamentali come ad esempio quelli gestionali e organizzativi e si tratta degli elementi minimi al di sotto dei quali si ritiene che non sia possibile assicurare la gestione dell'emergenza a scala di contesto. In concreto di che cosa si parla? Lo accennava Fabrizio Bramerini prima. Innanzitutto si utilizzano le stesse categorie di elementi che già sono definite a scala comunale, quindi gli edifici strategici, le aree per l'emergenza e le infrastrutture. In particolare si tratta di tre edifici o meglio tre funzioni strategiche fondamentali a scala di contesto, cioè l'edificio di coordinamento degli interventi, il soccorso sanitario e l'intervento operativo, più un edificio di coordinamento di interventi a scala comunale, uno per ogni comune del contesto, uno per ogni comune dei territori che compongono il contesto territoriale. Per quanto riguarda le aree di emergenza si situazione un'area di ammassamento per l'intero contesto e un'area di ricovero per ogni comune, le infrastrutture sono quelle sia di accessibilità al contesto o dal contesto, sia quella di connessione reciproca tra i diversi nodi ed elementi, quindi di edifici e di aree che sono stati selezionati all'interno del contesto territoriale. In sostanza queste relazioni tra elementi sono definite attraverso una matrice di relazione che poi verrà illustrata più nel dettaglio negli interventi successivi. Naturalmente è abbastanza semplice intuire che questa selezione di elementi richiede in ogni caso un'analisi a scale diverse, non solamente a scale di contesto. Ad esempio è stata svolta una verifica di coerenza con i sistemi regionali fondamentali, ritenuti fondamentali per la gestione dell'emergenza, quindi la rete sanitaria regionale, la rete degli edifici dei vigili del fuoco e la rete infrastrutturale primaria. Questo per la semplice ragione che non ogni contesto è dotato di un ospedale o di una struttura dei vigili del fuoco adeguati alla gestione dell'emergenza per l'intero contesto. Quindi è necessario comunque allargare lo sguardo e verificare l'eventuale presenza di questi elementi anche in un ambito più vasto. E questo è necessario anche per assicurare una coerenza nell'analisi, nell'identificazione degli elementi tra contesti contigui, soprattutto ad esempio nel caso delle infrastrutture. La verifica degli elementi viene svolta attraverso una serie di criteri che indicano in maniera sintetica quali sono i requisiti che ciascun elemento deve possedere, senza entrare troppo nel dettaglio, ma si può dire che sono individuate i rapporti tra ciascuno di questi elementi con gli elementi essenziali della pericolosità e quindi in particolare si verifica se l'elemento sia o meno interessato ad esempio da fenomeni, ricada in aree interessate da fenomeni di instabilità o di rischio idraulico-idrogeologico, si verifica che possieda delle funzioni per l'emergenza esplicitamente attribuite, che abbia delle caratteristiche dimensionali e funzionali ritenute minime e indispensabili e che anche dal punto di vista, in termini generali potremmo definire urbanistici, quindi riguardo all'uso attuale la proprietà e i vincoli d'uso sia coerente con la funzione che deve assicurare. Naturalmente si può dare il caso di dover individuare un nuovo elemento o un elemento diverso rispetto a quello che deriva dalla selezione degli elementi presi dalla scala comunale, perché i requisiti di un elemento possono non essere verificati, può non essere stato individuato all'interno dell'analisi della serie comunale o ci può essere il caso della CLE mancante all'interno di quel territorio. In questo caso viene individuato un nuovo elemento, secondo delle procedure che sono definite all'interno delle linee guida, che già risponde ai criteri necessari indicati nelle schede di verifica e che comporta la necessità di concordare tra i diversi soggetti e istituzioni coinvolte gli aggiornamenti necessari all'interno della pianificazione urbanistica e dell'emergenza. Le linee guida sono la sintesi di quello che abbiamo detto e che in realtà poi presentano al loro interno diverse articolazioni. In una prima fase sono fornite le definizioni del sistema di gestione d'emergenza, gli elementi minimi che lo compongono a livello strutturale. Le fasi della procedura, le fonti dei dati, quindi vengono fornite delle indicazioni su come individuare questo sistema anche arrivando a fornire le schede di identificazione e verifica per ciascuno degli elementi all'interno dei quali sono indicati i requisiti necessari da verificare. C'è poi una seconda parte che è dedicata a degli approfondimenti specifici e a delle applicazioni, in particolare alcune elaborazioni sulla rete degli elementi primari a scala regionale, un tema specifico di grande rilievo che è quello della connessione con le località abitate, alcuni casi particolari di applicazione e degli esempi di applicazione in particolare in due casi di studio, che sono quelli di Prato e di Cariati. Questa è una sintesi delle elaborazioni svolte che riguarda una scala superiore e quella di contesto, quindi a scala regionale per adesso nelle quattro regioni che sono state considerate all'interno delle attività del 2018, come è stato già detto le regioni ormai sono cinque, quindi anche sulla Basilicata verrà svolta questa elaborazione, dove sono individuate le grandi reti dei servizi essenziali per la gestione dell'emergenza, quindi gli ospedali, vigili del fuoco e le infrastrutture primarie di scala territoriale e regionale. Questo perché, come abbiamo detto, non in tutti i contesti sono presenti tutti questi elementi ed è quindi indispensabile, studiando un contesto territoriale e il suo sistema di gestione dell'emergenza, allargare lo sguardo anche ad ambiti più vasti. Nella tabella vedete in sintesi la situazione delle diverse regioni considerate che è piuttosto diversificata nei diversi contesti, a seconda che si consideri la presenza di ospedali, di vigili del fuoco. In alcuni casi sono presenti per ciascun contesto tutti e due elementi, in altri casi ci può essere l'assenza di uno di questi elementi, in alcune circostanze il contesto è privo di tutti e due questi edifici strategici. Quello che è stato svolto invece con i casi di studio di Prato e di Cariati, qui vedremo quest'ultimo, è una lettura più ravvicinata e che ha corrisposto all'applicazione delle procedure e dei criteri che sono stati definiti nella parte prima delle linee guida, quindi in che modo individuare, selezionare e poi verificare gli elementi a partire dalle analisi della CLE comunale. Qui vedete un'elaborazione di sintesi, è abbastanza semplice notare come la situazione all'interno dei diversi comuni sia piuttosto differenziata in termini di qualità e di numero di elementi individuati all'interno delle analisi di scala comunale e si può anche vedere, sono segnate con quei cerchi tratteggiati campiti di grigio, che il fatto stesso di definire dell'analisi a scala comunale a volte può comportare delle discontinuità, ad esempio di percorsi tra un comune e l'altro, perché i criteri impiegati da diversi comuni per l'individuazione delle infrastrutture possono essere differenziati e non sempre sono coordinati in maniera reciproca. In questa immagine invece si mostra il risultato dell'applicazione delle linee guida, quindi in che modo dalle analisi delle condizioni limite per l'emergenza comunale si passa all'individuazione del sistema rilevante, con gli elementi rilevanti a scala di contesto. Indubbiamente la prima questione che può essere notata è una riduzione del numero degli elementi, perché proprio per gli obiettivi posti alla base del lavoro nel sistema a scala di contesto vengono individuati soltanto gli elementi che hanno rilevanza di scala territoriale. C'è anche la soluzione o comunque il superamento di quelle incongruenze che sono state mostrate prima, quindi la discontinuità tra i percorsi di connessione tra un comune e l'altro viene, come è ovvio, eliminata con dei percorsi continui che sono scelti in base a dei criteri definiti all'interno della procedura ed è anche possibile, anche solo in questo caso, notare come osservando un contesto è comunque necessario osservare anche una scala superiore. Ad esempio in questo caso non essendo presente un edificio dei vigili del fuoco è stato necessario individuarlo all'esterno del contesto dei cariati, quindi individuando anche il percorso di connessione che lo collega al resto del sistema. Concludendo diciamo che i principali risultati che sono stati già in parte esposti sono quelli del superamento della scala comunale a favore di una visione interscalare, la definizione di processi e criteri generali che possono essere applicati in diverse situazioni e questo può favorire il confronto tra diversi contesti territoriali rendendo più agevole l'argomentazione delle scelte della selezione degli elementi. È una procedura che non può essere considerata automatica ma di certo una procedura guidata che quindi agevola la definizione di criteri applicabili in senso generale. In questo senso è abbastanza opportuno sottolineare che risulta piuttosto importante un'applicazione di queste linee guida in diversi contesti per evidenziare eventuali casi particolari e più in generale per declinare questi criteri che sono stati definiti in termini generali in diverse regioni in diverse realtà territoriali e soprattutto cercare di definire gli approfondimenti che possano agevolare la valutazione del sistema in rapporto alle finalità primarie di gestione dell'emergenza che sono definite all'interno del progetto e che più in generale possono essere ricondotte alla questione che attiene all'obiettivo principale del progetto PON. Con l'applicazione in diversi contesti contiamo di poter fornire dei contributi anche in questo senso. Direi che possiamo concludere. Grazie Fabrizio e Francesco. A questo punto ringrazio... Un commento, solo un commento di chiusura. Adesso non apriamo il dibattito perché pensavamo di rimandare, perlomeno se riusciamo a farlo, alla fine di tutta quanta la sessione anche di valutazione di OCT e della valutazione degli edifici. Perché anche su queste cose sicuramente probabilmente ci saranno anche domande. Un'ultima sottolineatura è la metodologia generale che è stata, che anche qui viene ripresa, è quella di cercare di standardizzare un processo. Per questo sono state fatte delle schede con delle modalità di applicazione abbastanza diciamo semplici, se volete anche schematiche in qualche maniera e per certi versi probabilmente anche riduttive. Però questa è un po' nella filosofia che è stata impostata sin dall'origine di tutti questi lavori, se volete anche dalla microzonazione e dalla CLE. Standardizzare e definire almeno delle condizioni minime, comuni e condivisibili. Anche in questo processo voi avete visto, cioè nel passaggio quello era il contesto territoriale di Cariati, si partiva dalle CLE comunali e chi ha lavorato con le CLE sa perfettamente quale siano le disomogeneità e le quantità di elementi di edifici strategici che i singoli comuni decidono che abbiano un'importanza. Sono state fatte delle scelte di minimo, cioè si è detto almeno questo deve esistere e su questo deve essere proseguito il lavoro per andare a verificare se è operativo. Dopodiché non si ferma lì la faccenda, è evidente. Cioè le pretese di volere avere maggiori livelli di sicurezza o elevati livelli di funzionalità sono secondo noi giuste, credo secondo tutti. Il problema è garantirsi però una base minima comune a tutta la popolazione. Questa è la filosofia generale diciamo con la quale viene posta all'attenzione di tutti quanti questa e anche le altre linee guida. Vedrete nelle linee guida c'è sempre scritto versione in genere 1, adesso siamo, questa è la 1.5, non mi ricordo bene eccetera. Cioè significa che come chi conosce la microzonazione sismica e la CLE, cioè adesso siamo arrivati alla versione 4.1 e la 3.01 perché si stratificano gli apporti e le integrazioni di tutti gli operatori, di tutti coloro che lavorano e che migliorano queste cose che consideriamo sempre in evoluzione. Siamo pronti per il caffè? Sì, ringrazio tutti i relatori di aver terminato con largo anticipo, quindi ci concediamo mezz'ora per il coffee break in modo di anticipare tutta quanta la sessione, quindi alle 11.40 puntuali tutti qui, grazie. 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 Se vi potete accomodare in sala iniziamo la presentazione degli altri interventi, volevo un attimo comunicare che rispetto al programma la pausa pranzo sarà anticipata di mezz'ora e quindi non più alle 13.30 ma alle 13 e vedremo di anticipare anche i tempi del pomeriggio in modo di non prolungarsi oltre le 16, 16.30 visto che ci sono molte persone che devono ripartire con treni e altri mezzi pubblici. Quindi io darei subito inizio agli interventi. Operatività dei contesti territoriali. Giuseppe Naso del Dipartimento della Protezione Civile e Federico Mori del CNR IGAG. Buongiorno, scusate questa contrazione di tempi però cerchiamo di tutelare anche chi deve partire oggi, poi a venerdì, quindi stiamo cercando di fare una corsetta in modo che tutti poi riescano a tornare in famiglia per tempo. Adesso vi presenteremo una modalità di calcolo quantitativo, quindi il risultato è veramente un numero dell'operatività strutturale del contesto territoriale. Quindi dopo aver definito la geografia, quindi come posso dire il limite di un'area, di un'area vasta, dopo, come avete visto prima del coffee break, aver definito gli elementi che stanno dentro questa geografia, quest'area vasta, quindi edifici strategici, aree d'emergenza, infrastrutture di collegamento. Adesso che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo mettere la perturbazione, cioè ci mettiamo un terremoto e vediamo cosa succede a questo sistema che, ripeto, l'abbiamo già detto molte volte anche stamattina, è un sistema strutturale, quindi non prevede procedure, non prevede mezzi, strumenti, uomini che fanno parte del sistema dell'emergenza. Quindi è il sistema strutturale dell'emergenza. Quindi quello che vogliamo fare adesso è mettere una perturbazione sotto questo sistema che abbiamo costruito stamattina, questo grafo con questi elementi, per vedere se funziona o meno. e la presentazione sarà fatta dagli ingegner Mori del CNR. A Federico non dispiacerà se dico che la presentazione la fa lui, ma chiaramente questo è il risultato del lavoro di tutti, cioè il risultato del lavoro dei pianificatori che hanno dovuto costruire il grafo, è il risultato dei geologi che hanno dovuto costruire la geologia e capire come funzionano, qual è la frequenza, la forza dei terremoti ed è il risultato degli ingegneri, degli ingegneri strutturisti che hanno dovuto capire come funzionano gli edifici. Quindi diciamo che qui dentro, come già aveva un po' anticipato Massimiliano Moscatelli prima, c'è un po' tutto quanto il lavoro fatto. Ripeto, sistema strutturale, ripeto, questi sono esperimenti, quindi sono cose su cui dobbiamo continuare a lavorare, non sono cose definitive, quindi può essere che tra un anno ci rivediamo e avremmo cambiato alcune cose. Quindi adesso do la parola all'ingegner Mori e a seguire vi faremo invece vedere un dettaglio di questo calcolo e ci focalizzeremo un po' di più sugli edifici. Ci sono delle novità in questa presentazione sia per quanto riguarda l'esposizione, diciamo che l'abbiamo già detta stamattina con questa valutazione di un grafo che riguarda solo gli elementi strutturali dell'emergenza. Ci sono delle novità per quanto riguarda la pericolosità, soprattutto la pericolosità di base, che non è una pericolosità alla, tra virgolette, alla INGV, no? La carta di pericolosità, ma ha una particolarità, è spazialmente correlata. E poi Federico Mori vi spiegherà cosa vuol dire. Ci sono delle novità perché finalmente anche il discorso della pericolosità locale trova una collocazione giusta nell'ambito di una valutazione del sistema di emergenza. Quindi la microzonazione, ovvero la pericolosità locale, trova una giusta collocazione. E poi ci sono anche delle novità sul trattamento della vulnerabilità degli edifici attraverso delle curve di fragilità variamente studiate. Ma su questo poi appunto c'è tempo di approfondire anche con l'altro intervento. Quindi lascio la parola a Federico Mori. Grazie Giuseppe. Buongiorno a tutti. Vi presento la valutazione di operatività strutturale dei contesti territoriali e quindi l'indicatore IOC-T. Riprendendo lo schema del progetto standard ci troviamo nella fase 4, quella di valutazione dell'operatività che comporta l'attribuzione della classe B. Rapidamente l'indice della presentazione vi illustrerò il modello matematico che traduce la CLE di contesto e quindi il grafo del sistema a rete e i requisiti di questa rete. Passeremo alla valutazione della probabilità di operatività strutturale di questo sistema sia per quanto riguarda il singolo oggetto in funzione di una pericolosità di base, di una pericolosità locale, di una vulnerabilità e poi alla valutazione della probabilità nel complesso con l'indicatore IOC-T. Infine vi mostrerò un esempio applicativo riferito al sistema strutturale di emergenza del contesto territoriale di Cariati e il software di calcolo che abbiamo messo a punto, Soft IOC-T. Partiamo dal modello matematico che traduce la CLE di contesto. La CLE di contesto è un sistema a rete costituito da oggetti fisici definiti e selezionati attraverso dei criteri di selezione che l'architetto Fazio ci ha illustrato precedentemente. Un indicatore già predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile per la valutazione dell'efficienza della CLE comunale IOPACLE degli indicatori di pericolosità sismica locale ottenuti con metodologie semplificate e degli algoritmi che calcolano i percorsi minimi tra gli oggetti fisici del sistema. Il sistema è dunque costituito da oggetti virtualmente puntuali sono gli edifici strategici e le aree di emergenza interconnessi da oggetti a sviluppo virtualmente lineare sono le infrastrutture di connessione. Quindi la CLE di contesto sostanzialmente nella parte algoritmica è rappresentata da un grafo costituito da nodi e d'archi. Qui riprendo la rappresentazione schematica che è stata fatta vedere un po' da tutti in cui vado a riassumere nuovamente quelli che sono gli oggetti che noi andremo a valutare per quanto riguarda l'operatività strutturale quindi per quanto riguarda i nodi i tre edifici strategici fondamentali con funzione di centro di coordinamento di soccorso sanitario di intervento operativo e di aree di ammassamento nel comune di riferimento invece per gli altri comuni valuteremo un'area di ricovero e il COC. Per valutare il sistema a rete è necessario però anche stabilire dei requisiti che questa rete deve soddisfare e delle performance che essa deve soddisfare. In questo caso noi vogliamo preservare dei collegamenti minimi per quanto riguarda il sistema di emergenza strutturale. questi collegamenti minimi che noi vogliamo garantire sono rappresentati in questa matrice chiamata delle adiacenze che vedete qui. In questo caso è presentata una matrice delle adiacenze o anche semplicemente una matrice di origine e destinazione per quanto riguarda il contesto a tre comuni della rappresentazione virtuale fatta vedere precedentemente. quindi queste sono le connessioni che noi vogliamo che siano garantite implicitamente questo sistema di matrice di adiacenze di origine e destinazioni e di performance vanno a definire anche già implicitamente quella che è l'incidenza di ogni singola componente fisica sul sistema globale come potete vedere dal diagramma a torta in cui praticamente mostro come più del 50% del peso della gerarchia del sistema è rappresentato dall'edificio 1 dall'edificio 2 dall'edificio 3 e dall'area di ammassamento. Passiamo a vedere come valutiamo la probabilità di operatività strutturale per ogni singolo oggetto fisico facendo parte del sistema. La valutiamo attraverso una curva di fragilità che esprime la probabilità di eccedenza di un certo livello di danno in funzione di una certa misura di intensità sismica. Per ogni oggetto definiamo quindi un modello di vulnerabilità semplificato o avanzato associato ad una misura di intensità in superficie ottenuta anche qui con un approccio semplificato o avanzato. La curva di fragilità ancora una volta esprime e permette di calcolare la probabilità di operatività strutturale in funzione di una certa misura di intensità sismica. Questa misura di probabilità assume un valore compreso tra 0 e 1. Passiamo a vedere la pericolosità di base che utilizziamo per la valutazione. Per ottenere le misure di scuotamento sismico abbiamo utilizzato la procedura Shakefield sviluppata all'interno del progetto europeo Synergy. in corrispondenza dei nodi del sistema a rete e per analisi con periodi di ritorno di 100 anni e 475 anni otteniamo i valori di scuotimento di PGA al bedrock. Sostanzialmente tre sono le caratteristiche fondamentali di questa procedura di calcolo della pericolosità di base. Una misura di intensità primaria che solitamente è la PGA spazialmente correlata tra i siti misure di intensità secondarie che serviranno per la valutazione degli effetti cosismici e delle deformazioni cosismiche e dei periodi spettrali condizionate alla misura primaria la PGA questa volta non tra i siti ma nel sito e un'analisi di tipo stocastico. Andiamo a vedere i singoli passi che costituiscono la procedura nel dettaglio dello Shakefield. inizialmente c'è la generazione di un evento di scenario con una magnitudo che viene campionata dalla distribuzione di probabilità della Gutenberg-Richter della zonazione ZS9 il passo 2 è quello dell'attenuazione di questa misura di intensità primaria attraverso una GMPE su una maglia di un chilometro quadrato il terzo passo è quello dell'interpolazione di questa PGA ai nodi fisici della rete una correlazione spaziale della misura di intensità primaria attraverso i campi dei residui intraevento un condizionamento delle intensità sismiche secondarie quindi delle deformazioni permanenti e dei periodi spettrali alla misura di intensità primaria già precedentemente spazialmente correlata con dei metodi di cross-correlazione e l'analisi stocastica sta qui la ripetizione dei cinque passi precedenti per un numero di iterazioni tali da generare tutti gli eventi sismici previsti dalla distribuzione di probabilità della Gudenberg-Richter della zona sismogenetica a cui il contesto territoriale appartiene fuori fuori da questi passaggi estraiamo dal campione totale degli eventi relativi a un tempo di ritorno 100 anni e 475 anni nella curva di hazard per quanto riguarda l'edificio fondamentale ES1 del contesto territoriale passiamo alla pericolosità locale sempre in corrispondenza dei nodi degli oggetti fisici del sistema a rete otteniamo gli stessi valori di scuotimento in termini di PGA ordinate spentrali per quanto riguarda le amplificazioni in superficie e per quanto riguarda i valori di spostamenti permanenti dovuti agli effetti cosismici anche qui le caratteristiche fondamentali sono tre sostanzialmente per quanto riguarda la pericolosità locale le analisi sono definite su due livelli di approfondimento si accettano alcune semplificazioni considerando che l'obiettivo finale è un obiettivo di valutazione su un'area vasta lo strumento essenziale per l'esecuzione di queste analisi sono gli studi di microzonazione sismica condotte in gran parte dei territori comunali analizzati gli effetti locali che prendiamo in considerazione in questo momento sono quelli dell'amplificazione stratigrafica delle frane da scivolamento delle frane di crollo e della liquefazione ancora non valutiamo gli effetti di fagli attivi e capaci cedimenti per densificazione e tsunami per quanto riguarda l'amplificazione stratigrafica abbiamo sviluppato delle procedure ad hoc all'interno del progetto PON come anche per le frane in crollo mentre come già detto precedentemente da Massimiliano Moscatelli per quanto riguarda le frane di scivolamento e di liquefazione utilizziamo degli approcci semplificati derivati da ADUS passiamo la vulnerabilità come già vi ho accennato prima la vulnerabilità sostanzialmente viene rappresentata dalla curva di fragilità anche qui utilizziamo come per la pericolosità locale due livelli di approfondimento quindi un approccio semplificato e un approccio avanzato per quanto riguarda gli edifici strategici o comunque gli edifici in generale per la valutazione dell'operatività e per la valutazione dell'eventuale collasso sulle infrastrutture utilizziamo nell'approccio semplificato le curve tipologiche di letteratura del progetto Synergy per quanto riguarda invece l'utilizzo dell'approccio avanzato utilizziamo delle curve di fragilità ricavate ad hoc e sviluppate con una metodologia all'interno di questo progetto PON derivanti dall'applicazione della metodologia Seismic Model from Ambient Vibration basata sulle misure delle vibrazioni ambientali eseguite a tutti i piani dell'edificio in condizioni di normale utilizzo nel dettaglio l'ingegner Vacca successivamente vi parlerà di questa metodologia di queste curve di fragilità specifiche per le aree di emergenza e per le infrastrutture di connessione la valutazione dell'operatività è in funzione dello spostamento permanente del suolo per frane e per liquefazione quindi con curve di letteratura ASUS viene valutata a seconda della probabilità di innesco di frana di crollo in funzione della PGA con curve FAB falla ricavate e all'interno di questo progetto mentre per quanto riguarda la valutazione dei crolli degli edifici interferenti sulle infrastrutture anche qui si utilizza una procedura tratta dal modello di Argirudis contenuto nel progetto Synergy quindi che cosa si fa si va a stabilire la probabilità di collasso di ogni tipologia strutturale si calcola il numero di edifici collassati per ogni tipologia si valuta la probabilità di ingombro legata al collasso e infine quindi la probabilità di operatività dell'infrastruttura sostanzialmente la produttoria delle probabilità di ingombro dovute al collasso delle singole tipologie elevate al numero degli edifici collassati arriviamo quindi dopo aver passato in rassegna la probabilità di operatività del singolo oggetto passiamo a vedere come viene valutata la probabilità di operatività del sistema a rete e quindi l'indicatore IOCT in termini generali in letteratura la misura della performance di una rete è definita attraverso l'efficienza quindi la nostra definizione dell'indice di operatività del contesto territoriale IOCT è definito come un rapporto tra l'efficienza della rete a seguito di un evento sismico per un dato periodo di ritorno 100 e 475 anni e l'efficienza della rete in condizioni di servizio l'efficienza della rete è calcolata come sommatoria delle efficienze delle singole coppie di nodi che devono rimanere collegati e qui torniamo alla matrice di adiacenza di origine e destinazione che vi avevo precedentemente mostrato vediamo prima il calcolo in condizioni di esercizio poi vedremo il calcolo invece in condizioni sismiche l'efficienza in condizioni di esercizio della singola coppia di nodi è data da un'operatività del nodo di origine che è assunta unitaria come l'operatività del nodo di destinazione e dall'inverso del percorso minimo tra nodo origine e nodo destinazione calcolato attraverso algoritmo di distra in funzione delle lunghezze degli archi di connessione nelle condizioni post-evento sismico a 100 e 475 anni di periodo di ritorno l'efficienza invece è funzione di l'operatività del nodo di origine ricavata dalle curve di fragilità che vi ho mostrato precedentemente l'operatività del nodo di destinazione condizionata a quella del nodo di origine e infine dall'inverso del percorso minimo tra nodo origine e nodo di destinazione in funzione delle lunghezze e delle operatività degradate degli archi di connessione quando i due nodi rimangono entrambi operativi questa è una slide che riassume un po' tutte le formulazioni del yacht e dell'efficienza passo avanti vediamo quindi l'esempio applicativo della metodologia yacht al sistema strutturale di emergenza del contesto territoriale calabrese di Cariati e quindi la messa a punto del software soft yacht il software soft yacht è stato sviluppato in ambiente MATLAB e ha al suo interno praticamente sostanzialmente tre pannelli che rappresentano un po' le fasi quella della esposizione e quindi quella del grafo della CLE di contesto la fase di pericolosità sismica il pannello di pericolosità che gestisce la pericolosità di base e le pericolosità locali e infine il pannello che gestisce la valutazione della vulnerabilità e quindi dell'operatività qui ci sono delle slide rappresentative appunto del caso del contesto territoriale di Cariati quindi il pannello che riguarda il grafo di CLE e DCT con i nodi rappresentanti gli edifici strategici le aree di emergenza e potete vedere anche gli edifici interferenti e le connessioni tra di essi la parte di pericolosità con la visualizzazione delle aree suscettibili di frana e di liquefazione e la mappa delle VS30 e infine la parte che gestisce con le curve di fragilità la valutazione della probabilità di operatività per ogni singolo oggetto costituente il sistema arriviamo quindi al calcolo dell'indicatore globale per come vi è stato definito sia per un periodo di ritorno di 100 anni e di 475 anni in questo caso abbiamo i primi risultati per il CT di Cariati uno yacht di 0,49 a 100 anni di periodo di ritorno e di 0,38 per quanto riguarda il periodo di ritorno a 475 anni oltre a calcolare l'indicatore complessivo calcoliamo anche gli indicatori disaggregati per quelle che sono le componenti che vanno poi a caratterizzare il diagramma a ragno che è stato un po' mostrato in tutte le precedenti presentazioni in questo anno nel 2019 sicuramente cercheremo di rafforzare di implementare quelle che sono le metodologie avanzate sia per quanto riguarda la pericolosità che per quanto riguarda la vulnerabilità faremo sperimentazione di questa metodologia yacht su 10 contesti territoriali pilota due per ogni regione per questo motivo come aveva detto precedentemente anche Giuseppe i risultati ancora non sono definitivi e ci concentreremo nello sviluppo della fase 5 del progetto standard quindi quella che viene denominata programmazione degli interventi attraverso una metodologia finalizzata all'ottimizzazione degli interventi strutturali sul territorio per la gestione dell'emergenza strutturale e della spesa economica associata al raggiungimento di una performance ritenuta accettabile ovvero un valore di yacht che dovremo stabilire e sarà ritenuto accettabile grazie 30 secondi a Giuseppe per una precisazione no non una precisazione un commento quindi stiamo tentando di quantificare la bontà l'efficienza di un sistema di un contesto territoriale e dal punto di vista strutturale ci deve essere assolutamente un'apertura in questo stesso senso per la parte non strutturale cioè le procedure le informazioni mezzi strumenti dobbiamo trovare il modo di quantificarle così come abbiamo fatto per il sistema strutturale è chiaro che sarà una sfida più ardua più complessa ma in questo senso diciamo ci stiamo già pensando e diciamo ci stiamo già attrezzando e abbiamo appunto chiamato nelle nostre fila persone che lavorano comunemente nei sistemi complessi perché indubbiamente se già è complesso in termini diciamo poveri il sistema strutturale il sistema completo di protezione civile il sistema di emergenza è ulteriormente complesso e in questo senso abbiamo trovato degli esperti che ci daranno una mano in questo senso Federico puoi riprendere un attimo diciamo i risultati finali allora tenendo conto che è un'esercitazione tenendo conto che è una sperimentazione quindi quei due valori di IOT hanno il valore che hanno quindi direi di tranquillizzare anche gli amici della regione Calabria probabilmente non è non saranno i numeri i numeri definitivi però puoi fare Federico un confronto e commentare un po' questi numeri sia quello diciamo generale sia quello parziale sì sicuramente una considerazione che abbiamo fatto era quella dell'influenza delle connessioni sull'indice di operatività complessivo del sistema quindi sicuramente l'asse delle connessioni gioca sicuramente un forte ruolo nella definizione dell'indice globale complessivo e la geologia scusate sono un geologo quindi lo voglio mettere in evidenza la geologia assume un'importanza fondamentale evidentemente accariati le frane sottante e quindi loro agiscono in maniera potente sul complessivo poi sì diciamo che tra 104 e 75 tutto sommato l'indice non è tanto più più basso anzi forse ci aspettavamo anche qualcosa di più basso è questo perché accariati indubbiamente anche a 100 anni come periodo di ritorno la pericolosità di base è alta e quindi mette in moto liquefazioni mette in moto frane sia a 100 che a 4,75 in altri contesti abbiamo visto che invece diciamo il gap tra 4,75 e 100 anni è molto più più alto grazie si sente no volevo solo precisare così per chi può apprezzare questa mia osservazione che se voi guardate quei numeri vi rendete conto che l'indice finale è tutt'altro che la media di quelli parziali trattandosi di un calcolo comunque probabilistico questo indice somiglia di più al prodotto non è propriamente il prodotto perché come avete visto calcolato attraverso un algoritmo più complesso però sicuramente quando un elemento del contesto in questo caso le connessioni a un indice basso influenza notevolmente l'indice finale cosa che ovviamente non sarebbe avvenuta se fosse stata una semplice media ringrazio Giuseppe Federico passiamo agli ultimi due interventi della mattinata operatività degli edifici Daniele Spina del Dipartimento di Protezione Civile e Vito Antonio Vacca del CNR IGAG allora io farò giusto una breve introduzione qualche considerazione preliminare prima della presentazione dell'ingegner Vacca che approfondirà all'interno dell'intera procedura dell'algoritmo per il calcolo dell'indice IOC approfondirà il modo in cui è modellata la vulnerabilità degli edifici in generale e degli edifici strategici in particolare di quelli fondamentali come vedrete poi nel corso della presentazione un ruolo fondamentale in questa modellazione nell'approccio avanzato è giocato da quello che viene denominato il modello SMAB che sta per Seismic Model for Ambient Vibration e che è un modello che qualcuno di voi già conosce una metodologia che qualcuno di voi già conosce e che porta al calcolo di quello che viene definito l'indice di operatività strutturale degli edifici strategici Volevo giusto ovviamente nel corso della presentazione saranno fatti dei scendi riassuntivi su questa metodologia però ovviamente per ragioni di tempo e anche per alleggerire un po' la presentazione saranno soltanto dei scendi perché l'attenzione sarà invece focalizzata sull'uso specifico che di questo modello è stato fatto all'interno del calcolo globale dell'indice IOC Volevo così ricordare brevemente alcuni aspetti di questa metodologia fare una breve storia ma brevissima un paio di minuti come è nata diciamo che cos'è questa metodologia e come è nata in qualche modo ci si è posta in fondo questa domanda cioè è possibile prevedere la risposta sismica di un edificio esistente semplicemente misurando la sua risposta dinamica cioè le sue vibrazioni nelle normali condizioni di servizio cioè possiamo estrapolare dalla misura di vibrazione dell'edificio nelle sue ordinarie condizioni di servizio parliamo di vibrazioni micro vibrazioni possiamo estrapolare da ciò il suo comportamento invece per sismi anche di notevole intensità questo è stato diciamo il quesito che ci siamo posti e a questo quesito è stata diciamo ovviamente attraverso una serie di studi tentativi eccetera e anche grazie in qualche modo alla nostra posizione privilegiata in quanto poi come dipartimento disponevamo dei dati dell'osservatorio sismico delle strutture una rete appunto di monitoraggio di cui vi ha parlato anche l'ingegnere Ticoletti che ci dava a disposizione una serie di dati sperimentali su cui basare anche le nostre considerazioni quindi a questa domanda alla fine siamo riusciti a dare una risposta positiva condizionata però diciamo a due aspetti diciamo la risposta è sì è possibile fare questa estrapolazione ma intanto a patto di fare queste misure di vibrazione diciamo secondo delle specifiche modalità disponendo i sensori in una maniera particolare che è stata definita all'interno della metodologia e poi è possibile farlo sì ma soltanto diciamo fino a un certo punto cioè arrivando fino al punto in cui l'edificio raggiunge il suo stato limite di danno cioè siamo in grado di simulare il comportamento sismico dell'edificio basandosi su queste misure di vibrazione ambientale fino al raggiungimento del suo stato limite di danno ma non in maniera affidabile per esempio per lo stato limite di collasso questo ovviamente da un certo punto di vista è una limitazione ma in qualche modo non lo è se pensiamo agli edifici strategici e al modo in cui noi diciamo siamo interessati agli edifici strategici noi siamo interessati a che un edificio strategico in caso di terremoto rimanga agibile operativo quindi sia fruibile e pertanto per un edificio strategico e strategico ad esempio per la gestione dell'emergenza è molto importante essere in grado di valutare la sua capacità di restare operativo in caso ad esempio di sisma quindi la possibilità attraverso il modello SMAB di calcolare questo indice di operatività strutturale che è proprio la probabilità che l'edificio resti operativo per un sisma con un certo periodo di ritorno è una grandezza una quantità molto importante sia diciamo di per sé stessa perché appunto può consentire di capire diciamo nell'ambito di una serie di edifici strategici eccetera se questo edificio è atto a svolgere le sue funzioni e in un insieme di edifici sui quali si fa questa valutazione su quali edifici sarebbe opportuno intervenire dal punto di vista proprio strutturale per migliorarne le prestazioni e sia anche come vedremo anche qui nella possibilità di inserire questo modello all'interno di una valutazione più globale a scala territoriale in cui uno valuta diciamo una operatività una probabilità di efficienza di un sistema più complesso di cui questo edificio fa parte e per esempio quindi può essere utilizzato sia dell'indice IOPACLE che è stato già precedentemente sviluppato e quindi presentato e sia come vedremo all'interno di questo indice IOCT dove appunto può aiutare a valutare la probabilità di operatività del singolo oggetto questa diciamo metodologia è stata sviluppata è stata promossa dall'ipartimento della professione civile già da parecchi anni con la collaborazione con molti enti di ricerca in particolare ovviamente col CNR IGA attraverso i finanziamenti dell'articolo 11 diciamo c'è stato uno sviluppo progressivo nel corso degli anni e ha già trovato in qualche modo qualche applicazione pratica sia pure in qualche modo a livello sperimentale diciamo e così di prototipo però abbiamo avuto già un'applicazione della regione Liguria che ha fatto valutare credo sette edifici strategici attraverso una convenzione con l'Università di Genova tutte diciamo attività che poi noi seguiamo in qualche modo ovviamente cerchiamo di diciamo di seguire essendo noi come dipartimento quelli che hanno promosso questo tipo di metodologia da pochi giorni sono tornato ad una riunione con la regione Piemonte dove all'interno di un progetto trasfrontaliero europeo è stato deciso di affidare a Politecnico di Milano le misure per la valutazione di cinque edifici strategici nella Val di Susa e forse l'applicazione più importante che è in corso ancora però in fase avanzata è quella che grazie diciamo alla in qualche modo alla longevitanza della città metropolitana di Roma Capitale è in corso cioè la città metropolitana di Roma Capitale ha attraverso una convenzione un accordo con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Roma 3 anzi ringrazio diciamo il Dottor Alessio Argentieri e Doressa Bruna Perniola che sono presenti ha commissionato la valutazione di 15 scuole all'interno del territorio provinciale per appunto valutare l'operatività strutturale di queste 15 scuole con questa metodologia sono già state effettuate le misure su 9 di queste scuole siamo in una fase insomma entro giugno il progetto sarà concluso e naturalmente poi c'è stata tutta una produzione scientifica per corroborare diciamo la validità di questo approccio ora diciamo quello che vedremo adesso nella presentazione è come è possibile utilizzare questo modello all'interno dell'indice di OCT qui ci sono stati fatti alcuni sviluppi importanti perché come avete visto diciamo i modelli di vulnerabilità sono basati sulle curve di fragilità quindi vedremo come è possibile poi generare queste curve di fragilità attraverso il modello SMAB e poi anche altri aspetti che riguardano l'ottimizzazione del suo utilizzo dovendo trattare un numero enorme grande di edifici in tutti i contesti territoriali anche edifici molto complessi la possibilità diciamo di sviluppare questo modello diciamo ottimizzando il numero di misure cioè la possibilità di ridurre in qualche modo il numero delle misure ma sempre comunque importante mantenendo diciamo il picore scientifico su cui la metodologia si basa quindi questa breve introduzione questo è il passo dall'ingegner Bacca che è qui buongiorno sentite? sì grazie Daniele quindi parlerò di operatività degli edifici ai fini del calcolo dell'indice di operatività del contesto territoriale quindi la valutazione dell'operatività è finalizzato al calcolo dell'indice IOCT definito nelle varie presentazioni precedenti come detto dall'ingegner Mori gli oggetti fisici che costituiscono il sistema sono sostanzialmente quelli che vediamo qui elencati quindi abbiamo edifici strategici in cui sono allocate le tre funzioni strategiche COC edifici interferenti ma anche aree d'emergenza e infrastrutture di connessione quindi strade ponti e tunnel in questa presentazione chiaramente ci occupiamo solo degli edifici una cosa che però vale per tutti gli oggetti fisici è che la appunto la vulnerabilità è trattata attraverso curve di fragilità quindi tutti questi oggetti fisici sono descritti tramite queste curve di fragilità la curva di fragilità fornisce la probabilità di una struttura soggetta ad un input sismico di assegnata intensità di superare un determinato livello di danno quindi è associata la curva di fragilità ad un edificio chiaramente ma anche ad un determinato livello di danno quindi per definizione è possibile costruire per la stessa struttura diverse curve di fragilità ciascuna riferita ad un livello di danneggiamento se quindi ad esempio ci riferiamo ai 5 livelli di danneggiamento introdotti nel documento MS98 cioè nella scala macrosismica europea quindi si va dal livello di danneggiamento di 1 danno leggero al di 2 danno moderato fino via via al di 5 l'ultimo livello di danneggiamento il più severo quindi che vede al collasso per ogni edificio è possibile costruire 5 diverse curve di fragilità ai fini della valutazione chiaramente dell'indice di operatività del contesto territoriale quindi di IOC si farà riferimento inclusivamente alla curva di fragilità relativa al danno moderato quindi al danno di 2 per gli edifici strategici che chiaramente devono restare operativi con lo scenario sismico previsto in quel luogo mentre si farà riferimento alla curva di fragilità di 5 quindi al collasso per gli edifici interferenti perché chiaramente interferiscono con le infrastrutture di connessione e come è stato precedentemente detto dall'ingegner Mori con la probabilità di ingombro degli atti di connessione degli oggetti ora come costruire queste curve di fragilità chiaramente ci sono diversi approcci due macro blocchi vedono approcci semplificati e approcci avanzati sostanzialmente la differenza è annidata nei dati di ingresso che noi inseriamo negli algoritmi per costruire le curve di fragilità allora per gli approcci semplificati noi ci riferiamo a diciamo il singolo edificio viene identificato attraverso le sue caratteristiche tipologiche strutturali e costruttive in generale mentre per gli approcci avanzati vulnerabilità è legata si va ad ancorare a quelle che sono caratteristiche intrinseche della della struttura facendone quindi una vera e propria carta di identità dinamica carta di identità di vulnerabilità di quello specifico diversi sono gli approcci di letteratura utilizzati e impiegati per gli approcci semplificati sostanzialmente le fasi operative in cui si articolano approcci vedono la costruzione di modelli di edifici prototipo a questa fase si arriva attraverso delle analisi del costruito l'individuazione delle tipologie edilizie ricorrenti e rappresentative appunto del costruito e quindi la costruzione di edifici prototipo sui quali poi vengono lanciate e svolte analisi di vulnerabilità e quindi la costruzione di curve di fragilità queste fasi sono comuni a diversi approcci appunto di letteratura all'interno del calcolo sono utilizzate le curve di fragilità del progetto Synergy qui trovate chiaramente i riferimenti e sostanzialmente queste curve sono hanno la peculiarità di riassumere in una curva media tanti modelli esistenti in letteratura e come detto prima si utilizzano le curve D2 le curve Yelding per la valutazione dell'operatività strutturale degli edifici strategici e le curve Collapse D5 per la valutazione della probabilità di crollo degli edifici interferenti le curve vengono posizionate quindi in base alla tipologia alla quale la struttura e l'edificio afferisce quindi ad esempio edifici in cemento armato piuttosto che edifici in muratura se stiamo parlando di edifici regolari in pianta o irregolari se hanno criteri di progettazione e realizzazione o meno ci siamo resi conto però che questi approcci semplificati non possono essere impiegati per gli edifici strategici questo perché questi edifici fondamentali tipicamente sono caratteristiche morfologiche difficilmente riconducibili a tipologie standard dunque gli approcci semplificati portano a valutazioni poco affidabili qui vediamo alcuni edifici strategici e ci rendiamo subito conto che è difficile evocare queste strutture all'interno di classi o tipologie strutturali questi edifici costituiscono quasi delle unicità ed è difficile appunto collocarli all'interno di classi per irregolarità strutturali e azione e quindi ecco l'approccio avanzato proposto per questa tipologia di edifici la metodologia impiegata è la metodologia SMAV che appunto afferisce agli approcci avanzati proprio perché andiamo ad ancorare la curva di fragilità che verrà costruita a quelle che sono le caratteristiche intrinseche della struttura stessa quali sono queste caratteristiche intrinseche sono sostanzialmente le frequenze proprie di vibrare e le forme modali della struttura che vengono estratte a valle di identificazioni dinamiche quindi attraverso appunto identificazioni dinamiche a seguito di indagini di situ con con la metodologia smav è possibile calcolare anche il cosiddetto indice di operatività strutturale il cosiddetto IOPS che appunto esprime la probabilità che l'edificio sia operativo cioè utilizzabile dal punto strutturale a seguito del terremoto atteso al sito per un dato periodo di ritorno questo indice chiaramente non viene utilizzato all'interno del flusso logico per il calcolo dell'indice di operatività del contesto territoriale la metodologia smav sviluppata da Daniele Spina e da Federico Mori nel 2015 appunto prevede si sviluppa in quattro fasi operative la prima è la raccolta chiaramente dei dati di base quindi la ricostruzione della geometria e dei materiali di cui la struttura si compone il cuore della metodologia è questa fase 2 quindi la misura di vibrazioni ambientali sull'edificio la fase 3 prevede l'analisi e la modellazione e quindi l'estrazione dei parametri modali dell'edificio il calcolo della distribuzione delle masse e la valutazione dell'impuzzismico a valle anche di analisi sul suolo di fondazione e infine la valutazione della risposta strutturale la valutazione della risposta strutturale avviene attraverso quella che noi definiamo analisi lineare equivalente quindi sostanzialmente noi abbiamo il solito problema dell'analisi modale lineare e quindi la valutazione è condotta con approcci in spostamento in cui il parametro di controllo del livello di danno è il drift interpiano e il drift interpiano è definito come il rapporto tra lo spostamento testa-piede del singolo elemento verticale rapportato alla altezza dell'osteo gli spostamenti vengono calcolati con la nota sovrapposizione combinazione modale in cui abbiamo il coefficiente di partecipazione modale il vettore delle forme modali viene costruito a valle del processo di identificazione dinamica moltiplicata per quelle che sono le accelerazioni spettrali il modello SMAV viene realizzato immaginando gli impalcati degli edifici come infinitamente rigidi e qualora questa assunzione non dovesse essere diciamo attendibile la deformabilità in pianta degli impalcati viene introdotta utilizzando il modello multirigid trigon che va a sconnettere appunto gli impalcati considerandoli come assiemi di più blocchi rigidi chiaramente per calcolare la risposta non lineare abbiamo bisogno di introdurre appunto delle non linearità le non linearità vengono introdotte considerando delle curve di abbattimento della frequenza che sostanzialmente sono appunto delle curve che al variare del drift misurato nella struttura ci dicono quanto le frequenze vengono abbattute questo perché chiaramente la risposta dinamica di un edificio durante un terremoto è funzione del livello di danno che si registra e quindi questa produce una riduzione delle frequenze di risonanza dell'edificio rispetto rispetto a quelle determinate attraverso le misure di vibrazione ambientale quindi le misure di vibrazione ambientale effettuate in tempi di pace sulle strutture forniscono delle frequenze queste frequenze devono essere in qualche modo tornate per tener conto del livello di danneggiamento queste curve consentono di aggiornare le frequenze appunto all'aumentare del livello di danneggiamento nell'ambito del progetto PON sono state sviluppate due procedure la prima con l'obiettivo di definire una curva di fragilità specifica dell'edificio attraverso la metodologia SMAV la seconda definire una curva di fragilità specifica dell'edificio attraverso una metodologia SMAV che prevede un numero ridotto di misure le curve di fragilità vengono costruite appunto utilizzando la metodologia SMAV che costituisce il mattoncino elementare per la costruzione delle curve e le fasi sono sostanzialmente tre c'è una prima fase che vede l'inserimento di un input sismico una seconda fase che vede il lancio di analisi SMAV sul modello dell'edificio e una fase pre-conclusiva che vede proprio la costruzione e l'elaborazione dei dati per la costruzione della curva di fragilità quindi sostanzialmente si dà all'edificio un input che è costituito sia può essere costituito sia di spettri reali sia di spettri artificiali e si esce dal flusso logico con una curva di fragilità per quanto riguarda la prima fase quindi la realizzazione la prima fase quindi l'input sismico da assegnare al modello dell'edificio c'è il problema di valutare come lo spettro in termini direzionali deve essere associato all'edificio quindi viene inserita viene introdotta una nuova variabile aleatoria che in qualche modo va a diciamo proiettare la va a proiettare il carico sismico nelle due direzioni principali dell'edificio mentre la fase due e la fase tre vedono la costruzione della curva di fragilità attraverso le fasi qui indicate e quindi qui è nota la quindi sostanzialmente chiedo scusa sono un po' agitato un po' è un equimismo chiaramente come? giuro che sono molto padrone di queste cose chiaramente però l'autorevolezza del luogo e delle persone ovviamente mi mettono una presa diciamo non sono condizioni al contorno deboli e quindi magari riprendo la costruzione sostanzialmente le curve di fragilità noi abbiamo mi svincolo dalla presenza di raccio abbiamo il modello SMAB il modello SMAB inseriamo un input sismico quindi tipicamente uno spettro uno in una direzione e l'altro diciamo uno spettro nella direzione X uno spettro nella direzione Y il risultato di SMAB è un drift il drift è il livello di danneggiamento è il parametro di misura del livello di danneggiamento per quell'edificio e allora noi inseriamo in questo grafico in cui leggiamo sull'asse delle X l'intensità sismica un parametro di misura dell'intensità sismica sull'asse delle X sull'asse delle Y il massimo drift quindi il parametro di misura del livello di danneggiamento che noi abbiamo scelto e quindi per ogni analisi lanciata noi abbiamo nel piano intensità di misura sismica e livello di danneggiamento un punto se noi chiaramente lanciamo molte analisi all'aumentare dell'intensità sismica il risultato che otteniamo è una nuvola di punti quindi ciascun punto rappresenta la coppia intensità sismica danno strutturale registrato ok quindi lanciamo migliaia di scenari sismici migliaia perché per costruire una curva di fragilità noi abbiamo la necessità di lanciare davvero migliaia di analisi queste analisi vengono lanciate facendo variare incrementando l'intensità sismica il risultato è questa nuvola di punti che in qualche modo racconta come la struttura reagisce ai migliaia ha reagito alle migliaia di input sismici questa curva di fragilità questa nuvola di punti viene in qualche modo discretizzata e quindi si passa da una nuvola di punti appunto ad una serie di funzioni di continuo e di distribuzione scegliendo quindi il massimo interrogando quindi la nuvola di punti la struttura su quello che il livello di danneggiamento a cui stiamo chiedendo la struttura stiamo interrogando l'edificio abbiamo quindi per ciascun livello di intensità sismica la probabilità che è quella indicata in rosso che quel drift venga raggiunto e superato e quindi passiamo quindi dall'intensità sismica livello di danneggiamento al piano intensità sismica probabilità che quel livello di danno venga raggiunto e superato quindi l'ultima parte è la creazione della curva continua che ci fa passare dai punti discreti alla curva e quindi per ogni livello di danneggiamento interrogato noi abbiamo diverse curve ecco perché noi parliamo di curve di fragilità associate al singolo edificio spero di essere stato chiaro nella fase e vi prego di farmi qualche domanda ora se si ok dopo mi dicono dopo si 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 sto concludendo quindi questa è la procedura per determinare costruire la curva di fragilità o le curve di fragilità la metodologia smav prevede una misura dei parametri modali ad ogni piano ad ogni livello quindi qui abbiamo la schematizzazione della nostra della nostra struttura ad ogni piano e deve essere misurato deve essere piazzato sensore ci siamo resi conto però che estendere su scala nazionale questa procedura è molto oneroso e quindi ci siamo chiesti è possibile ridurre il numero di piani monitorati chiaramente garantendo l'accuratezza questo è stato anche sede della seconda attività elencata prima e quindi la risposta è sì è possibile ridurre il numero di misure la procedura che si utilizza è sintetizzata a cui sostanzialmente si passa dal modello dell'edificio ad un modello di trave a rigidezza variabile che sintetizza il comportamento complesso dell'edificio e le curve di fragilità sono state costruite per due edifici la curva il primo edificio la scuola di San Lorenzo dei Medici a Barberino di Mugello tre livelli irregolare impianta e l'ospedale di Tivoli un edificio in CA regolare impianta a nove livelli questi sono i risultati stiamo sempre vedendo curve di fragilità al danno di due e per l'ospedale di Tivoli sono presenti le curve costruite con le due metodologie quella che vede l'applicazione di SMAV tra virgolette completo quella viola e quella lilla che vede l'applicazione di SMAV con misure ridotte è anche stata applicata ai 28 edifici presenti nella sperimentazione SMAV Italia e quindi come queste curve di fragilità vengono poi impiegate nel calcolo dell'indice di operatività del contesto territoriale è rappresentato qui quindi per gli edifici strategici ci riferiamo alla curva di 2 per gli edifici interferenti alla curva di 5 sostanzialmente entriamo con una intensità SISM e usciamo con la probabilità di operatività per gli edifici strategici e una probabilità di collasso per gli interferenti e queste due probabilità vanno nell'algoritmo Yacht presentato precedentemente dall'ingegner Mori credo di aver concluso i 5 minuti scusate voglio fare una piccola precisazione così per correttezza ovviamente perché ne io ne Federico vogliamo prenderci tutti in merito dello sviluppo della metodologia SMAB ovviamente i primi studi in cui si riferisce anche quell'articolo sono stati fatti da noi due però poi c'è stato il contributo di molti altri soggetti che chiunque vedrà la bibliografia gli articoli potrà capire uno per ricordarne uno soltanto anche quello del professor Mauro Dolce quindi è stato il prodotto della collaborazione di più persone anche adesso di Antonio Vacca di tutti quelli che ci lavorano che quindi hanno contribuito allo sviluppo sì allora sì puoi rispondere alla domanda sì la domanda la domanda era qual era la domanda che aveva fatto lei era la sulla si riferiva alla quando hai fatto vedere le curve di fragilità diciamo si vedeva la possibilità di costruire diverse curve di impendenza dico perché forse non era ben sottolineato il fatto che ciascuna curva era ok sì sì no allora sì è chiara la domanda sì 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 no 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 è chiaro è chiaro sostanzialmente viene selezionato a monte un set di spettri o reali o artificiali e questo set di spettri è selezionato appunto ad intensità sismica variabile veramente dalla bassa all'altissima c'è appunto questa selezione che viene fatta a monte e a ciascun analisi a ciascun input sismico corrisponde un puntino che vediamo in questo piano in questo grafico se ci sono altre domande chiarimenti sì apriamo un dibattito su tutti gli interventi che ci sono stati nella mattinata quindi non soltanto non soltanto sull'ultimo oppure richieste di chiarimenti visto che siamo in anticipo rispetto alla pausa pranzo che è alle alle 13 c'è una mano alzata c'è il microfono sì è aperto no semplicemente un chiarimento abbiamo mi sembra di aver capito che per gli edifici strategici questa metodologia è abbastanza affidabile per determinare lo stato limite di danno ma non lo stato limite di collasso quindi alla fine ho visto che invece nell'indice complessivo per quanto riguarda gli edifici interferenti viene messa la probabilità di collasso mentre per quanto riguarda gli edifici strategici viene presa a riferimento la probabilità di operatività allora è come se andiamo per quanto riguarda l'edificata l'edificata a confrontare comunque dei parametri questa è la mia prima riflessione inoltre ne avrei un'altra perché per gli edifici strategici viene adottata questa metodologia che comunque sia comporta una serie di misurazioni e quant'altro quanto abbiamo l'ordinanza 32 74 che ci dice di verificare gli edifici strategici rilevanti e a quel punto non investiamo se non altro per gli edifici strategici a fare le verifiche e quindi avere tutti gli indici di rischio sia di collasso statolini di salvaguardia della vita e di esercizio comunque ed andiamo a inserire la metodologia e così abbiamo anche dei risultati più forse attendibili allora la prima domanda la prima domanda è semplice diciamo è proprio il ruolo diverso che rivestono gli edifici interferenti gli edifici strategici all'interno dell'indice IO perché nel modello l'edificio strategico è un nodo un nodo con una sua vulnerabilità e di per sé quindi diciamo influenza il valore totale dell'indice anzi per quanto riguarda come ha fatto vedere gli indici strategici fondamentali avendo molte connessioni hanno una importanza un peso notevole nell'indice globale quindi per questi edifici ha senso adottare una biologia più raffinata che comporta magari maggiori onio maggiore sforzo però ha senso in quanto la loro influenza sull'indice finale è maggiore per questi edifici interessa l'operatività perché sono un nodo invece gli edifici interferenti teoricamente nel grafo non esistono in quanto tali ma esistono come fonte di vulnerabilità della connessione vulnerabilità perché se la facciata crolla e quindi è proprio un ruolo differente che impone un trattamento differente ovviamente nel caso di edifici interferenti si usano le pubbliche fragilità di letteratura intanto perché va bene una valutazione meno raffinata e poi per questo discorso il secondo discorso poi delegato allora le verifiche di vulnerabilità sì sono cioè è quello che serve per assicurare la sicurezza degli edifici privati e pubblici per i cittadini per chi li occupa per i professori è quello che serve ma dal punto di vista diciamo di quello che serve a noi all'interno di questa valutazione cioè ci serve valutare la probabilità di operatività in questa direzione in questo senso ma solo per questo aspetto la metodologia SMAP è sicuramente più affidabile perché la verifica di vulnerabilità diciamo hanno una parte convenzionale che è sempre diciamo conservativa quindi assicura la sicurezza del cittadino cioè diciamo nella verifica di vulnerabilità se io diciamo sono conservativo cioè sono più a favore di sicurezza va benissimo ma quando faccio un calcolo di una probabilità io devo essere preciso cioè se io devo mandare un razzo su Marte diciamo che posso andare a favore di sicurezza per cui il razzo però va più lontano quello deve arrivare proprio su Marte quindi devo essere preciso quindi nel nostro caso ci serve di essere precisi né a favore né a sfavore di sicurezza quindi l'approccio della verifica sismica che sicuramente va bene cioè è giù è quello ne vedo che scuota la testa poi qui fra l'altro scusi non ci serve una probabilità statica lei qui vede che noi non abbiamo potuto neanche utilizzare l'indice di variabilità strutturale scusi un attimo non abbiamo potuto utilizzare neppure l'indice di variabilità strutturale perché ci serve un qualcosa di ne abbiamo capito ho dovuto fare molte simulazioni ciascuna simulazione dà un risultato diverso cioè è proprio diciamo non possiamo utilizzare diciamo avendo una pericolosità spazialmente correlata dobbiamo utilizzare anche una vulnerabilità che di volta in volta per ogni simulazione che facciamo ci dà un risultato quindi che modo ne avremmo potuto usare lo sa che cosa mi lascia perplesso che se da un punto di vista metodologico mi può andare bene questo discorso non mi torna da un punto di vista normativo perché una volta che io comunque sia ecco no non mi torna aspetta 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 Giuseppe fammi finire il discorso è stato fatto male qui stiamo facendo un discorso tecnico scientifico in questo momento la norma noi possiamo farla in Uganda in Italia negli Stati Uniti questo approccio e l'obiettivo è diverso in questo momento noi in seguito potremmo anche valutare problemi normativi però in questo momento noi stiamo facendo un discorso tecnico scientifico la norma serve per la sicurezza dei cittadini e ci mancherebbe deve essere sempre rispettata l'obiettivo di questo indice invece è quello di fare una valutazione di rischio diciamo ad area vasta per il sistema di emergenza pensa quanti si e quanti ma ci stanno rispetto a dare una valutazione sul singolo edificio per farci mettere dentro dei cittadini è molto diverso cioè l'obiettivo è completamente sì ok va bene ho capito quello che dici però come ripeto questo sarà una cosa da prendere in considerazione ma man mano che si va avanti perché il sistema di gestione dell'emergenza corretto e con un indice perfettamente che arriva ad uno ok e magari ho l'edificio strategico normato che anche quello deve arrivare a uno e invece non mi ci arriva ecco quindi sicuramente questa è una cosa da prendere in considerazione di un secondo livello dell'ultima fase dell'ultima delle fasi c'è proprio la fase cioè l'utilizzo di questo indice io in questo caso per capire dove allocare le risorse ma ovviamente dove allocare le risorse per fare cosa per fare poi delle verifiche sismiche di normativa e poi fare degli interventi secondo la normativa quindi a quel punto diciamo le nostre valutazioni si ritraggono diciamo e si passa diciamo agli interventi strutturali che verranno fatti secondo ovviamente la normativa questo è chiaro ci sono altri interventi ecco maggior regione campagna volevo chiedere una curiosità per la componente non strutturale il collega Naso ha accennato che c'è già qualche idea visto che la componente strutturale dell'Ioct è stata diciamo molto chiara abbiamo avuto modo di capire molto bene hai acceso una curiosità indubbiamente volevo sapere se già per la componente non strutturale ci sono delle idee a riguardo ci sono delle idee ma queste idee vanno condivise con lei del dipartimento e quindi non scopriamo le nostre carte va bene le scopriremo insieme un po' alla volta a presto era solo questa curiosità grazie prestissimo perché come sai con l'ufficio emergenza siamo in piena diciamo attività a fervore di attività per capire questi comunque poi sai quali sono le parti non strutturali che ci interessano di più le procedure il processo dell'informazione avanti e indietro quindi diciamo in questi campi diciamo però per idee precise ecco anche informazioni comunque noi riparleremo grazie comunque della domanda perché indubbiamente è una parte straimportante Buongiorno io mi chiamo Rubino premetto che non sono né un ingegnere né un geologo né un fisico né un architetto sono forse il meno adatto a chiedere un chiarimento appartengo alla categoria che è rappresentata con un elemento di formazione di un economista se mi consente vorrei permettermi di rassicurare l'ingegnere Vacca sulla estrema chiarezza divulgativa del suo intervento anche se fosse stato teso non appariva assolutamente tale quindi credo che questa è la prima preoccupazione da fugare ho due quesiti appunto di natura molto intuitiva il primo quesito è questo ho compreso che per quanto riguarda il sistema territoriale le infrastrutture rilevanti di connessione sono mi pare di capire infrastrutture viarie stradali che sono anche intuitivamente diciamo l'elemento più importante per assicurare la continuità forse territoriale non so come si dice in condizioni emergenziali ci sono però anche il sistema infrastrutturale composto anche da altre risorse che hanno un ruolo forse non così fondamentale ma a volte decisivo le telecomunicazioni i sistemi anche di trasmissione dell'energia le condotte idriche e quant'altro quindi non so se questi elementi verranno considerati in futuro o quindi per parsimonia si è partiti dall'infrastruttura più rilevante secondo quesito che volevo porre sempre a titolo intuitivo è mi è parso di capire dalle due relazioni tecniche che è stato detto con molta chiarezza che dei parametri di condizionamento degli esercizi un parametro di condizionamento degli esercizi anche dato dei tempi di ricorrenza degli eventi ora vorrei avere un chiarimento su questo fatto perché mi è parso che i risultati di queste simulazioni tenessero mi scuso ancora tenessero alle caratteristiche come posso dire strutturali istantanee del manufatto e non non riesco a capire come come queste caratteristiche possano essere influenzate in senso stocastico dal tempo di ricorrenza cioè non vedo per quale ragione se non un evento di cento anni fa o quattrocentosettantacinque anni fa possa influire su queste caratteristiche strutturali posto che probabilmente quell'edificio manco esisteva grazie prima la ringrazio di avermi fatto questa domanda come si suol dire perché mi dà modo di dire che tra i programmi del 2019 c'è la valutazione delle altre life lines quindi comunicazioni gas telefonia acqua e quant'altro quindi sicuramente faremo delle valutazioni valutazioni di questo genere invece alla seconda domanda è indubbiamente per non addetti al lavoro è una maniera anomala il tempo cento e quattrocentosettantacinque diciamo in qualche maniera indica indica misura la forza del terremoto non terremoti successi cento anni fa e quattrocentosettantacinque anni fa ma dire un tempo di ritorno c'è sempre questa questa coda tempo di ritorno cento anni e quattrocentosettantacinque anni vuol dire in termini molto molto semplici molto sintetici vuol dire che il tempo di ritorno abbiamo fatto una valutazione per un terremoto medio piccolo e per un terremoto medio grande addirittura avremmo potuto scrivere 2475 terremoto è bellissimo ok quindi quel cento e quattro e settantacinque ci dice quanto è grande e quanto è energetico il terremoto comunque grazie per aver dato l'apertura sulle lifelines che indubbiamente andavano Fabrizio prima mi mi invitava a fare quella osservazione se la vuoi fare perché dà un'altra chiave di lettura che può essere riutilizzata anche per il collega dell'Umbria che prima c'è Fabrizio hai due minuti di tempo allora no mi piace ricordare quasi in chiusura non penso di essere l'ultimo ma in chiusura di questa cosa come è iniziata diciamo l'illustrazione di questa cosa e l'ha fatta il direttore Italo Giulivo ieri cioè il senso di avere un indicatore sintetico in una mappa geografica da caso contempla non solo un'unica regione ma la velleità è di dire sul panorama nazionale cioè dovrebbe essere un indicatore innanzitutto che mette a confronto delle performance su tutto il territorio nazionale su una base omogenea e confrontabile cosa che oggi non è questo è uno strumento poi operativo serve per fare una comparazione una graduatoria e una programmazione qui è lungi da noi che stiamo lavorando a questo tipo di progetto nel dare dei riferimenti di tipo assoluto e innanzitutto questo con riferimento anche al collega della regione Umbria e le osservazioni lungi da noi dal voler sostituire ciò che invece è già normato e funziona perfettamente e che ha altre finalità che sono la messa in sicurezza di un edificio una volta che uno ha definito che deve messare in sicurezza quell'edificio cioè una normativa che funziona perfettamente e che deve essere utilizzata questi indicatori sintetici a basso costo perché è inconfrontabile ovviamente stiamo parlando di ordini di grandezza diversi è evidente perché se no non avrebbe un senso se noi dicessimo perché non si utilizza la verifica degli edifici per fare questa cosa è perché per fare la verifica di già diciamo poco 1500 edifici in Italia sarebbe un problema con altri problemi connessi alle procedure poi di intervento perché chi fa poi quella verifica ci ha speso molti soldi ma non è che poi venga utilizzata dal progettista che va a intervenire ma lasciamo stare questa parentesi allora l'obiettivo di fondo già ben chiarito sin dall'inizio e che secondo me vale la pena appunto riportare anche in chiusura è fare graduatorie interne misurare performance definire dei benchmark perché qua da quei due indicatori pur sperimentali cioè danno secondo me un flash su come andranno questi dati cioè nel senso che in Italia la sicurezza probabilmente da questo punto di vista è molto bassa allora bisogna e non tutto se avete visto il fatto di mettere quelle componenti strutturali dell'indice complessivo è perché uno deve capire come orientare poi distribuire le risorse scarse lo sappiamo per migliorare da qualche parte non da io mi piace fare il confronto con le misurazioni di performance che ormai credo che anche su questa platea siano ben comprese del mondo della sanità che ha un flusso di informazione molto più elevato con livelli di approssimazione molto più elevati e che sono anche abbastanza standardizzati cioè oggi all'interno dei distretti sanitari si cerca di migliorare un certo tipo di performance chiamiamola così che riguarda la salute dei cittadini ma che può riguardare il periodo di degenza per curare un certo tipo di patologia è molto chiara però dietro c'è una strategia qualcuno generalmente il direttore generale o il direttore comunitario decide su cosa puntare rispetto a politiche di intervento che vengono definite da altre parti la stessa cosa dovrebbe essere negli altri mondi come il nostro cioè definire qual è la strategia all'interno di quegli assi mettere dei soldi sugli edifici sulle infrastrutture o su altre avete visto forse avete percepito le aree di emergenza hanno meno problemi è chiaro neanche a parlarne basta che non hai sbagliato a metterla su un'area instabile e purtroppo ce ne sono quello lì ma quello lo recuperi facile perché non è che intervieni cambi e infatti questo sarà il capitolo finale capire quali sono le ricette per cambiare cioè non necessariamente si mette del denaro là sopra ma si può cambiare e modificare l'assetto grazie 10 secondi per Giuseppe ma 10 secondi nel pomeriggio la perturbazione della mattina era un terremoto ma siamo in Italia non ci facciamo mancare niente nel pomeriggio la perturbazione sarà il processo il problema idrogeologico quindi vi invito assolutamente a essere molto puntuali e numerosi nel pomeriggio grazie quindi chiudiamo adesso alle 14 in punto tutti in aula buon pranzo grazie 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 facciamo prendere un po' posto le persone se no allora iniziamo i lavori un po' prima del rispetto alla tabella di marcia in modo di dare la possibilità a chi poi deve viaggiare di anticipare il termine dei lavori a questo punto darei la parola alla parte relativa al programma idrogeologico idraulico e quindi do subito la parola ad Angelo Corazza e a Paola Bertuccioli del Dipartimento di Protezione Civile e a seguire poi a Eva Trasforini della Fondazione Cima che è referente per quanto riguarda questo progetto idrogeologico idraulico buongiorno a tutti di essere venuti di avere anche avuto la resistenza di continuare anche nel pomeriggio di venerdì allora per quello che riguarda la parte idrogeologica quello che verrà presentato nella giornata di oggi sono diciamo l'illustrazione di alcune attività che sono ancora a livello preliminare perché diciamo la scadenza delle attività previste nella parte idro è quella del 31 dicembre 2021 e diciamo alcune di queste attività verranno concluse prima in particolare a maggio del 2020 la parte ovviamente ci sono diverse interconnessioni tra la parte idraulica idrogeologica e la parte sismica la prima riguarda i contesti territoriali e l'indice di operatività dei contesti territoriali abbiamo detto ieri che i contesti territoriali per così come sono stati definiti sono contesti che si basano diciamo su alcune caratteristiche di omogeneità socio-economiche del territorio e su alcune caratteristiche legate ad altri aspetti relativi all'unione dei comuni piuttosto che alle e poi trovano un loro punto di forza nelle analisi finalizzate alla gestione dell'emergenza sui tempi di raggiungibilità dal comune di riferimento alle zone abitate più lontane del contesto territoriale però ho cognato che i contesti territoriali sono tra virgolette degli ambiti omogeni per quello che riguarda la loro esposizione dopodiché su questi contesti si può applicare qualsivoglia forzante sia naturale che antropica che in linea generale provoca degli effetti che trovano il loro maggiore risentimento nell'ambito del contesto stesso e che il contesto richiede che vengano attuate quelle azioni di ripristino finalizzate a recuperare le condizioni iniziali nel contesto stesso che si comporta appunto in maniera omogenea dal punto di vista socio-economico faccio un esempio banale abbiamo vari comuni diciamo di una zona più o meno situata a quota elevata che afferiscono dal punto di vista economico verso una zona posta a valle allora se ci sono fenomeni franosi che impediscono di raggiungere la zona produttiva a valle benché siano situati diciamo in un'area dal punto di vista anche del comune diversa da quella del comune che sono poste alle attività produttive comunque la realtà socio-economica di quel contesto ne soffrirà e viceversa se per qualsiasi fenomeno alluvionale il comune che è sede delle attività produttive a seguito del fenomeno alluvionale vedesse interrotte queste attività ne risentirebbero tutti i diciamo i dei quali la gente parte per andare a lavorare in questi insediamenti insediamenti produttivi avete visto ieri che le interrazioni con i contesti sono state fatte delle verifiche diciamo di prima analisi sui contesti territoriali per quello che riguarda anche la loro rispondenza alle aree di allertamento lo stesso vale per l'indice di operatività dei contesti territoriali dove ci sono delle similitudini ma ci sono anche le differenze perché per esempio per la pericolosità in ambito idraulico idrogeologico non pare allo stesso livello di dettaglio dal punto di vista della modellazione che stanno facendo i nostri colleghi sismici dal punto di vista della pericolosità comunque i documenti di riferimento sono quelli legati alla pianificazione del rischio quindi ai piani di assetto idrogeologico ai piani di gestione del rischio del rischio alluvionale per quello che riguarda la vulnerabilità qui è tutto un settore che deve essere vulnerabilità delle strutture e infrastrutture agli eventi idraulici idrogeologici anche qui è un settore che deve essere sviluppato ad hoc per il quale abbastanza letteratura ma che diciamo questi spunti teorici devono essere portati a sintesi per poter lavorare in parallelo con la parte sismica e arrivare a definire in maniera diciamo omogenea un indice di operatività del contesto territoriale che valga almeno per questi due tipi di rischi poi la logica deve essere sempre quella multirischio se ho un'industria a rischio di incidente rilevante quella crea un impatto e quindi può determinare anch'essa nel momento in cui accade un incidente un qualche cosa che ha una ripercussione nel territorio e che quindi bisogna valutare anche per questo diciamo per questo evento le sue ripercussioni sull'indice di operatività del contesto territoriale per quello che riguarda il PON nei suoi aspetti idraulici idrogeologici i temi sui quali noi lavoriamo sono sostanzialmente misure non strutturali e sono misure non strutturali che trovano un loro riferimento normativo nelle misure individuate nel piano di gestione regionale in particolare le misure M4 quelle di preparazione e quindi sono misure legate a migliorare le capacità di previsione a migliorare le capacità di monitoraggio a migliorare le capacità nella pianificazione di emergenza poi ci sono altri altri temi che sono trattati tipo quelli dell'informazione alla popolazione la formazione ed altri temi diciamo che in prospettiva potranno essere oggetto di ulteriori sviluppi di un'attività PON con l'Agenzia per la coesione territoriale diciamo sviluppi cui ieri si è accennato nella parte idrogeologica noi abbiamo ben 11 linee di attività oggi diciamo sulle quali l'ingegner Trasforini vi farà una descrizione sia pure sintetica oggi parliamo di alcune di queste linee di attività che riguardano appunto i contesti territoriali con alcuni accenni sulle come si può dire analisi di tipo idrogeologico che possono essere fatte su questi contesti anche se ripeto si tratta di analisi preliminari quindi vi possiamo solamente presentare come si può dire che stiamo seguendo e gli indirizzi che vogliamo arrivare un altro tema fondamentale perché diciamo per il potenziamento delle capacità di previsione ma anche per il potenziamento di uno strumento fondamentale nella prevenzione che è quello della pianificazione di protezione civile un'attività di famo strategica è quella di fare delle valutazioni sulle aree che attualmente non sono mappate né nei piani di assetto idrogeologico né nel piano di gestione del rischio illusionale come si può dire abbiamo due situazioni per le aree bianche presenti in queste mappe o non c'è il rischio o lì il rischio non è stato valutato però comunque l'amministratore che deve costruire il piano di protezione civile deve avere ben chiaro questo aspetto e deve avere anche qualche strumento per poter in qualche modo aggiungere ai documenti di riferimento di cui dispone delle analisi per poter diciamo costruire uno scenario di evento che possa essere quanto più attinente alla realtà ovviamente non ci possono essere elaborazioni scenariche che non tengono conto dei dati derivanti dagli eventi che sono realmente accaduti che sono la base così come in qualsiasi altra attività legata all'analisi del rischio idrogeologico per qualsiasi appunto valutazione e modello di azione l'altro aspetto importante che serve appunto per affinare gli strumenti di previsione e per affinare anche i documenti a cui si può trovare riferimento per la relazione dei piani di protezione civile sono i scenari di evento e di rischio i scenari di evento intendendosi quegli scenari dinamici di cui parla il codice della protezione civile gli scenari di rischio andando a definire rispetto alle mappe di rischio che usualmente troviamo nei piani di assetto idrogeologico e nei piani di gestione rischio alluvionale cosa di più che riguarda il rischio per le persone quindi andare a individuare quelle situazioni dove ci sono maggiori probabilità purtroppo che in caso di un evento l'incolumità delle persone venga interessata e questo sarà un diciamo mentre il discorso della valutazione della pericolosità nelle aree non mappate dai paesi PGA verrà trattato dal professor Menduni del Politecnico di Milano gli scenari di evento e di rischio verranno trattati dal professor Versace dell'Università della Calabria Infine ci sarà un intervento che riguarda un po' un altro aspetto strategico del PON perché il PON ha come finalità generale quello del rafforzamento permanente della governance e allora per definire una governance ci vogliono delle linee politiche ma poi bisogna avere anche degli indicatori per misurare se queste politiche che uno adotta raggiungono determinati risultati e poi bisogna definire dei livelli minimi perché dal punto di vista della mitigazione del rischio qualsiasi tipo di rischio naturale e non il panorama italiano è a macchia di lopardo ci sono eccellenze ma ci sono anche zone dove diciamo la mitigazione del rischio è scusate il termine è ridotta ai minimi termini l'ultima notazione su questo tema dei livelli standard da raggiungere interventi non strutturali diciamo parlerà la dottoressa Chiara Franciosi della fondazione AICIMA chiudo e poi do la parola all'ingegner Trasforini diciamo su un altro concetto che è stato introdotto negli standard minimi e che noi abbiamo diciamo conservato nel PON che è quello delle aree a minore sostenibile ci sono zone che sono soggette ad eventi che per la loro intensità e per le loro dinamiche molto veloci sono eventi molto difficili da prevedere tipo diciamo colate detritiche piuttosto che alluvioni repentine che laddove vanno a impattare zone ad elevata esposizione creano delle condizioni per le quali le azioni di protezione civile di previsione allertamento e azioni per la tutela delle incolumità delle persone non riescono a raggiungere quello di gestione appunto del rischio che è accettabile riguardo al pericolo a cui sono esposte le persone quindi diventano delle aree dove gli interventi strutturali sono assolutamente prioritari proprio perché devono ridurre il livello del rischio fino a lo sostenibile sostenibile con le misure non strutturali e qui c'è una stretta relazione tra misure strutturali e non strutturali perché noi dobbiamo partire dalla consapevolezza che anche laddove esistano già risorse stanziate per un intervento di tipo strutturale comunque per la realizzazione di questo intervento possono passare anche anni e allora nelle more della realizzazione di questi interventi bisogna necessariamente realizzare delle misure non strutturali di protezione civile perché se no noi abbiamo la consapevolezza che in quella zona sussiste un rischio molto elevato talmente alta è questa consapevolezza che abbiamo programmato anche degli interventi che abbiamo stanziato dei fondi per gli interventi ma se poi non adottiamo non eseguiamo delle azioni di protezione civile per l'incolumità delle persone come si può dire abbiamo solo attuato una parte di quello che è necessario e questo è il primo aspetto relativo alle interrelazioni tra misure strutturali e non strutturali l'altro aspetto è che comunque anche dopo che ho realizzato un intervento una certa aliquota di rischio il cosiddetto rischio residuo rimane e anche quella aliquota che deve essere conosciuta anzi che deve essere emessa come si dire come target per l'intervento si deve sapere quant'è la quota di rischio che rimane dopo l'intervento deve essere gestita e anche qui deve essere gestita attraverso interventi non strutturali quindi diciamo gli interventi non strutturali sono che precedono accompagnano e seguono gli interventi strutturali proprio perché devono dare una continuità nell'azione di previsione e di allertamento per la popolazione che è necessaria per tutti i rischi che sono tra virgolette che ricadano tra i rischi prevedibili come quelli idrogeologico concludo e lascio la parola all'ingegnere Trasforini mi sentite? Questa a sinistra mi sentite ora? Buongiorno a tutti io sono Eva Trasforini innanzitutto ringrazio Angelo per avermi introdotto e anche per avermi sollevato da quasi tutta la presentazione scarsa no mi concentravo visto che no ma io visto che comunque è un momento particolare per me è anche emozionante diciamo che mi ha seriamente sollevato da parte della fatica io appunto sono Eva Trasforini sono ricercatrice di Fondazione Cima e come Fondazione Cima siamo capofila dell'ATI che collabora con il Dipartimento per appunto il completamento degli obiettivi del PON Governance sul rischio idrogeologico e idraulico e scherzi a parte mi concentrerò soprattutto su quello che Angelo non ha detto e soprattutto sull'organizzazione che ci siamo dati per quanto riguarda l'attività e quello che è stato portato avanti finora lascerò la parola a chi poi effettivamente vi descriverà nel dettaglio alcune delle attività che sono state portate avanti di che cosa parliamo questa slide sicuramente la conoscete tutti e Angelo giustamente ha introdotto il fatto che ci occupiamo di misure non strutturali di mitigazione del rischio e in particolare non si vede ah aiuto scusate no perché non ho messo ho semplicemente fatto andare avanti ok non si vede lo stesso una parte ma magari ve la racconto sotto c'era scritto misure strutturali ma tanto sono quelle che non ci interessano e spero che poi questo non non crei problemi nel resto della presentazione su che cosa ci ci concentriamo principalmente sulla pianificazione di emergenza di protezione civile e sulle altre misure non strutturali che possono essere integrate con questa misura il rischio idrogeologico idraulico ovviamente ha caratteristiche molto diverse rispetto a quello sismico di cui si è parlato questa mattina quindi anche la tipologia di misure a far riferimento sono differenti molte le ha citate Angelo io vorrei semplicemente richiamare alcuni degli spunti di base che noi abbiamo utilizzato nel preparare la proposta della proposta progettale che ovviamente si basa su quanto descritto quanto richiesto dal dipartimento ma al quale abbiamo cercato di mettere qualche cosa di nostro utilizzando l'esperienza che i cinque partner di cui ora vi parlerò brevemente possono portare quindi ovviamente abbiamo tutti un'impostazione di tipo accademico quindi uno degli elementi fondamentali per il nostro lavoro è stato quello di cercare di introdurre e inquadrare i progetti standard in un contesto un po' più ampio che facesse riferimento sicuramente all'esperienza alle necessità agli obiettivi delle regioni che sono coinvolte nel progetto ma anche al contesto nazionale e internazionale di ricerca e ricerca applicata un altro elemento che sta a cuore è quello della modularità di tutte le azioni che analizziamo e portiamo avanti e per le quali vengono definiti i progetti standard che cosa intendiamo con modularità intendiamo che possiamo avere diverse intensità di intervento quindi da un intervento diciamo più blando in tutte quelle zone che hanno minori necessità appunto di riduzione fino a arrivare step su step a interventi più intensi e quindi anche più di dettaglio che richiedono un maggiore sforzo in quelle situazioni specifiche quali le aree a minore sostenibilità del rischio che citava precedentemente Angelo un altro elemento che a noi sta molto a cuore è quello legato alla partecipazione in tutta la partecipazione quindi della cittadinanza delle amministrazioni all'interno delle misure che andiamo a definire e valutare questo perché perché in parte crediamo che sia un modo per rendere più efficaci le misure che stiamo cercando di definire e di mettere in atto e anche perché crediamo che l'unico modo quindi più efficaci poi sul territorio effettivamente ma anche la partecipazione con le amministrazioni quindi non solo le regioni con le quali entriamo direttamente in contatto con i livelli più locali per la condivisione di tutte le azioni e quindi delle successivi strumenti che verranno messi a disposizione facendo uno step indietro vi ho parlato di 5 partner il riferimento a Fondazione Cima che è la capofila ma gli altri nostri compagni di viaggio sono la Fondazione Politecnico di Milano il CNR IRPI che quindi è qua a casa sua l'Università della Calabria il Consorzio CINID fra tutti i partner copriamo una buona parte di conoscenza perché comunque abbiamo esperienza su tutto il territorio italiano e se possiamo dire anche in campo internazionale come è organizzata la struttura è su questo che mi concentrerò principalmente abbiamo un coordinatore amministrativo che è il professor Ferraris che è sempre di Fondazione Cima che oggi mi ha lasciato la parola e quindi ho l'onore di essere qua a parlare con voi un coordinatore dell'attività che è il professor Versace che a breve vi parlerà di una delle attività cinque esperti senior io sono uno dei cinque esperti senior altri di loro parleranno successivamente quindici esperti junior che sono sostanzialmente facendo riferimento a tre tre profili esperti del settore ingegneristico del settore geologico e dei esperti di pianificazione sono diventati quindici abbastanza recentemente perché fino alla scorsa estate ci concentravamo su quattro regioni e avevamo coinvolto complessivamente dodici esperti junior con l'ingresso anche della regione basilicata nel lavoro il gruppo di lavoro si è allargato a questi esperti che erano richiesti nel momento in cui abbiamo iniziato appunto a preparare a pensare a questo progetto si sono affiancate altre persone perché comunque le professionalità le esperienze richieste per poter portare avanti correttamente le attività sono molte e sono molto variegate e il lavoro è scurabile sinceramente e quindi abbiamo incluso nei gruppi di lavoro anche altri esperti oltre a questi che vi ho citato ora ciascuno di questi esperti ovviamente facendo riferimento ad uno dei cinque partner compongono l'ATI che è nata ad hoc per il progetto ma che ovviamente nasce da collaborazioni precedenti magari non tutti si collaborava contemporaneamente sicuramente ha geometria variabile in funzione delle attività da portare avanti ma appunto collaborazione un'organizzazione che è sostanzialmente analoga a quella che avete visto nel campo del sismico adesso il disegno è un po' diverso ma non ci sono grandi differenze quindi abbiamo un'unità di coordinamento che è composta principalmente con l'ordinamento interno di nostro diATI che è composta dagli esperti senior e dai due coordinatori che fa riferimento da un lato al dipartimento che è il nostro ovviamente referente principale molti gruppi di lavoro che si occupano delle diverse attività del progetto che anche questi sono composti di volta in volta in base alle esigenze con tutti gli esperti quindi i 20 no 21 adesso non ricordo di preciso gli esperti previsti dal capitolato più gli altri che mano a mano decidiamo di risolgere e i gruppi di lavoro si rapportano anche con le unità operative regionali che invece sono costituite da persone che hanno proprio in affidamento il lavoro sulle singole regioni quindi in ciascuna regione ci sono tre esperti junior più dei referenti senior questo è sempre l'organizzazione del dell'ATI per fare che cosa io ve ne parlo in termini molto generali il progetto ha due principali linee di intervento una che è di carattere più generale che è quella dedicata proprio alla definizione dei progetti standard che quindi si concretizza nella realizzazione di strumenti di carattere generale in linee guida e anche in una parte importante di sviluppo di modelli di valutazione sia delle attività che vengono sviluppate ma soprattutto delle misure che vengono prese in considerazione questa parte generale deve trovare una sua concretizzazione ulteriore nel rapporto con le regioni quindi in quella che viene chiamata la linea di intervento B che prevede principalmente attività di affiancamento presso le singole regioni e lo sviluppo di prodotti specifici molto velocemente noi ci organizziamo a partire facendo cardine delle attività della prima linea di intervento quindi più generale e su questa definiamo i gruppi di lavoro e gli strumenti che devono essere definiti per ciascuna delle attività a carattere generale tendo a confronto questo lavoro con gli obiettivi delle regioni con le necessità delle regioni possono essere definiti invece gli obiettivi specifici da implementare nelle attività di affiancamento e comunque più in generale nelle attività della linea B sei fasi le abbiamo viste anche questa mattina sono le fasi del progetto che vanno dalla definizione dei contesti territoriali che in realtà lo vedrete per noi non è un lavoro di definizione perché i contesti territoriali sono già stati definiti tramite la metodologia adottata in campo sismico per noi più una verifica dei contesti territoriali ai fini del rischio idrogeologico ad analisi specifiche legate al rischio quindi alla valutazione del rischio in termini di più in realtà di pericolosità e conoscenza di quello che può essere successo sul territorio l'analisi della pianificazione di integrazione di ciò che è già esistente alla valutazione dell'operatività del sistema di risposta di emergenza a una fase che non è se ancora o meglio si è attivata ma non ha ancora trovato il suo completamento finale di progredire degli interventi anche per capire appunto come raggiungere gli standard minimi di cui ha parlato Angelo precedentemente ed una fase che noi consideriamo non conclusiva perché in realtà parte dall'inizio del progetto di valutazione di quanto viene fatto all'interno del progetto stesso e dell'efficacia degli interventi che vengono programmati io ho preparato una serie di slide in cui si raccontano le attività ma non vorrei ripetervele nuovamente quindi alcune cose ve le raccontate Angelo io semplicemente quello che vi racconto e ci sono alcune delle attività che sono state avviate ma non ne parleremo oggi una di queste è l'attività A2-2 che appunto è legata al potenziamento dei sistemi di previsione di allertamento e con l'utilizzo del dato radar e della sua integrazione con altri è l'attività successiva in termini numerici perdonatemi che è legata al censimento sugli eventi storici avremo occasione in altre situazioni di parlare di questa attività alcune invece come vi dicevo prima non sono proprio avviate formalmente ma vado avanti perdonatemi un po' per l'emozione ve lo devo dire e un po' perché comunque mi rendo conto che sarà più interessante entrare nello specifico delle attività che cosa succede però da quello che vedrete che vi raccontere di carattere generale abbiamo derivato quelli che sono i nostri obiettivi per le attività di affiancamento e quindi per le attività legate al rapporto con le regioni perché poi è questo diciamo l'obiettivo principale che ci siamo dati quindi quello di concorre nelle regioni delle attività e di portarle avanti quindi tutto ciò che si diceva prima serve per dare un quadro generale ma per poi arrivare ad attività più di dettaglio il quadro abbastanza così articolato complesso però diciamo che tutte le attività di carattere generale sono di darci degli spunti per poi lavorare sul territorio le nostre tempistiche sostanzialmente come vi dicevo prima abbiamo avviato alcune delle attività la fase 1 la fase 2 è completamente avviata e dovrà terminare se non ricordo male dell'anno prossimo così come la parte generale della 5.1 quindi l'attività di identificazione delle misure da integrare nella pianificazione di emergenza la fase 3 sono iniziate adesso nel senso che sono state avviate in questo secondo periodo mentre la fase 6 verrà avviata a partire dal prossimo periodo non è completamente simmetrica la situazione per quanto riguarda il complimento delle attività presso le regioni perché alcune attività fra le quali quella di cui vi parlerà Olga Petrucci a breve presso le regioni dovrà terminare in tempi molto brevi mentre per altre arriveremo sostanzialmente alla fine del progetto che sarà a Natale proprio il giorno di Natale del 2021 quindi ci faremo tutti gli auguri con un sacco di prodotti che riusciremo sicuramente a portare a termine io con questo ho concluso vi ringrazio dell'attenzione e lascio la parola ai miei colleghi che saranno sicuramente bravissimi allora passiamo ai contesti dell'operatività in ambito idrogeologico interverranno Angelo Corazza a cui do 30 secondi perché ha sforato prima e Olga Petrucci del CNR IRPI no solo per dire che doveva fare una breve introduzione l'ingegnere Giordano che per problemi familiari non è venire sul discorso dei contesti territoriali e la loro analisi in ambito idrogeologico appunto ci parlerà la dottoressa Petrucci ovviamente scherzo parola a Olga salve io sono Olga Petrucci dell'IRPI e l'IRPI è partner responsabile dell'attività A11 cioè dimensioni territoriali indicatori finalizzati all'analisi dei rischi e delle condizioni di sicurezza e di protezione civile questa attività si sviluppa attraverso due obiettivi il primo è la verifica della coerenza fra le dimensioni dei contesti territoriali e una serie di altri poligoni come le aree dotate dal PGRA e le aree afferenti ai centri operativi di protezione civile e il secondo obiettivo è la definizione di indicatori per quantificare i livelli di rischio e capacità di fronteggiare emergenza e il livello di sicurezza dei contesti territoriali noi lavoriamo anche all'attività B11 cioè quindi nell'affiancamento per l'analisi dei fabbisogni e la valutazione delle dimensioni territoriali in relazione alle aree afferenti ai centri operativi di protezione civile in questa presentazione contesti territoriali ovviamente sono quelli individuati dal PON Sisma e DIAM sarebbe la nostra area di indagine sostanzialmente e PGRA è la sigla del piano di gestione dei rischi alluvioni che si articola in 69 vaccini idrografici principali e 17 units of management che sarebbero delle unità omogenee per la gestione o dei bacini o degli insiemi di bacini i prodotti che abbiamo realizzato nel primo anno vanno essenzialmente suddivisi per obiettivo nell'ambito del primo obiettivo quindi la verifica di coerenza fra dimensioni di contesti territoriali e altre entità territoriali già esistenti abbiamo analizzato le relazioni fra contesti territoriali e limiti provinciali zone di allerta comuni e slope units e poi le relazioni fra i contesti territoriali e le unità di riferimento del PGRA cioè le units of management e i principali bacini idrografici essenzialmente quello che si vede sono ovviamente cose note tanto di notare dove effettivamente ci possono essere delle problematiche e delle criticità anche sulla base del dibattito che è emerso ieri alla fine della giornata quindi sostanzialmente per quanto riguarda relazioni fra province e contesti territoriali diciamo che la situazione un pochino più complicata ce l'avremmo in Sicilia ma comunque il numero di casi non è eccessivo il numero di casi in cui non c'è una coincidenza fra province e contesti un pochino più complessa la situazione per quanto riguarda le zone di allerta specialmente in Sicilia dove siamo a 14 su 43 e invece per la Calabria è stata modificata da 6 a 8 zone di allerta in modo da rendere omogenea la situazione da questo punto di vista e quindi limitare le problematiche che potrebbero sorgere e analogamente per quanto riguarda il numero di comuni cui si faceva riferimento nella discussione di ieri sera sicuramente va notato che nella Puglia abbiamo dei picchi con contesti contenenti un numero consistente di comuni per i quali si dovrà ovviamente prevedere una serie di strategie in modo tale da favorire il management sostanzialmente per quanto riguarda invece le relazioni geometriche fra contesti territoriali e slope unit che sostanzialmente sono nulla legato al management sono qualcosa più di diciamo geomorfologico sono delle unità territoriali composte da versanti elementari che si presentano omogenee in termini di propensione al dissesto quindi possono darci un'idea di quello che diciamo possono essere utilizzate per la zonazione di pericolosità di modellazione geodrologica e sono indicative di quella che è la variabilità del territorio da un punto di vista morfologico quindi quello che ci possiamo aspettare come diciamo articolazione delle problematiche all'interno di ogni contesto territoriale e questi si ottengono con un software dedicato che è stato sviluppato da CNR e IRPI e per quanto riguarda invece contesti territoriali e unit of management sicuramente le situazioni più tranquille le abbiamo in Calabria e in Sicilia qualcosa un po' più complesso che diciamo andrà valutato per quanto riguarda invece la Campania e analogamente per quanto riguarda i bacini idrografici e il piano di gestione del rischio alluvione risulta abbastanza complesso un po' in tutte le regioni con una punta massima in Sicilia e per quanto riguarda invece il secondo obiettivo quindi la definizione di indicatori per quantificare i livelli di rischio capacità di fronteggione emergenza e il livello di sicurezza dei contesti allora noi abbiamo cominciato a lavorare sulla Calabria dove i contesti territoriali sono già stati stati nel 2016 e quindi abbiamo avviato la nostra sperimentazione sugli indicatori quindi abbiamo analizzato una serie di altri parametri per esempio le relazioni tra contesti territoriali e rete pluviometrica abbiamo effettuato la classificazione dei contesti territoriali in base ai tipi di eventi pluviali secondo una classificazione internazionale riconosciuta e sviluppata in ambiente mediterraneo e la classificazione dei contesti territoriali in base a una serie di eventi di zesto geologico realmente accaduti e recenti estratti dalla nostra banca dati dell'Irpi di Cosenza e in particolar modo se guardiamo le relazioni tra contesti territori e pluviometri vediamo che poi la situazione non è diciamo complicata a parte un 5% dei contesti territoriali che risulta privo di pluviometri quindi questo dovrebbe richiedere poi un improvement da questo punto di vista abbiamo più della metà dei contesti che è dotato di un numero di pluviometri fra 2 e 5 e sulla destra vedete gli anni di funzionamento di questi pluviometri i dati di pioggia raccolti presso le regioni saranno analizzati in relazione alle soglie pluviometriche regionali ma nel frattempo abbiamo effettuato questa prima classificazione dei contesti territoriali in base ai tipi di eventuali secondo quella classifica che prima vi dicevo che è basata sulla pioggia accumulata in 24 ore e individua una serie di classi di tipi di pioggia ovviamente noi ci siamo concentrati su quelli che potessero essere diciamo i tipi di eventi più importanti da un punto di vista dell'innesco di problematiche geoidrologiche e quindi abbiamo classificato i vari contesti in questi termini quello che emerge per chi conosce la Calabria è praticamente una specie di faglia fra il settore sud più frequentemente intensamente interessato da piogge a carattere torrenziale piuttosto che il resto che risulta meno esposto a questo tipo di e dopodiché abbiamo effettuato la classificazione dei contesti territoriali in base a una serie di eventi di dissesto recenti questi sono i nomi dei posti per cui questi eventi sono famosi sono eventi per i quali sono stati eventi in emergenza riconosciuti a livello nazionale rosso i comuni danneggiati da piene e o frane durante gli eventi analizzati quindi a questo punto abbiamo scisso i casi di comuni interessati da frana e quelli interessati da piene e quindi abbiamo tentativamente introdotto un criterio quindi abbiamo considerato un contesto territoriale se almeno due terzi dei comuni sono stati danneggiati da frana durante l'evento analizzato e non omogeneo se almeno in due terzi dei comuni non vi sono stati danni da frana durante l'evento e in questo modo abbiamo effettuato una prima classificazione di questi eventi quindi analogamente quindi vedete non danneggiato a fianco non omogeneo oppure omogeneo in rosso analogamente abbiamo preso per gli stessi eventi le segnalazioni di danni da piena e abbiamo effettuato la stessa procedura ovviamente questo è un indice di tentativo avendo i dati si può fare qualunque cosa e noi i dati li abbiamo per ulteriori elaborazioni per quanto riguarda invece i prodotti dell'attività B1-1 in Sicilia abbiamo partecipato lavorato alla revisione dei contesti territoriali in base ai limiti cuore che sarebbero i centri unificati operativi regione Sicilia per l'emergenza è stata effettuata la raccolta dei dati pluviometrici sia dalla rete dell'osservatore che del servizio informativo agro-menterologico siciliano e abbiamo analogamente realizzato la classificazione degli eventi di pioggia secondo il criterio che vi dicevo precedentemente per quanto riguarda questa revisione sostanzialmente da 83 poligoni cuore 43 contesti territoriale di 29 poligoni poco popolati in 13 contesti territoriali con una popolazione variabile tra 50.000 e 100.000 abitanti si è passati a un numero di contesti inferiore qui vedete le varie aggregazioni e qui i comuni di riferimento quelli coincidenti quelli di uno e dell'altro tipo di classificazione dopo di che per quanto riguarda gli eventi abbiamo raccolto sia diciamo due serie storiche una di 13 e una di 11 anni e per il periodo in sovrapposizione è stata fatta questa classificazione degli eventi e quello che si vede è che entrambi i dataset confermano che diciamo frequenze simili di eventi della penultima classe quindi piuttosto consistenti per quanto riguarda invece questo è semplicemente uno schermino per far vedere che dietro alle mappe che ho mostrato prima ci stanno dei numeri che possono essere utilizzati per ulteriori elaborazioni quindi presi per esempio due dei contesti territoriali della regione noi abbiamo per ogni contesto conosciamo le informazioni di base quindi i comuni di riferimento e queste sono tutte le cose che sono state diagrammate quindi province zona d'allerta limiti del PGR units of management slope units e numero di pluviometri questa è un modo di riassumere quell'indice che abbiamo utilizzato sulle frane è la stessa cosa per quanto riguarda le piene e questo invece è la classificazione degli eventi di pioggia sulla base della frequenza con cui si sono verificati possiamo possiamo continuare con altri dati questi per esempio presi dal Ponsisma in tempi di percorrenza a partire dal comune di riferimento e poi una serie di diciamo a queste ovviamente a questi contesti territoriali corrispondono dei comuni quindi esistono una serie di dati a scala comunale che possono essere utilizzati per varie cose ad esempio riduzioni suddivisi per genere e per classi di età che come sapete sono dei parametri che possono essere utilizzati per delle valutazioni della vulnerabilità delle persone e per quanto riguarda le attività in corsi futuri sicuramente proseguire l'acquisizione dei dati per la caratterizzazione dei contesti territoriali e poi questo ovviamente è lo schemino che avete già visto ripreso da una delle presentazioni del Ponsisma quindi lavorare con questo in collaborazione ovviamente col Ponsisma che è più avanti ovviamente su questa attività alla realizzazione di questo indice di operatività strutturale quindi sostanzialmente abbiamo la parte di OCT strutturale che avete visto stamattina ampiamente descritta quindi da realizzare in collaborazione con Ponsisma e poi la parte di OCT non strutturale e quindi a questo punto quello che entra in gioco è una diversa per fare diciamo riferimento a una parola che è stata usata stamattina un'altra perturbazione quindi altri due tipi base di perturbazione soprana e per piena e quindi alla fine lavorare su pianificazione coordinamento preparazione e resilienza in collaborazione con le altre linee del progetto che vedete elencate fra parentesi e questo è tutto vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie Olga anche di essere stata nei tempi ed aver recuperato quindi prego i prossimi di rimanere nei tempi stabiliti e quindi passo adesso alla valutazione pericolosità non mappate dal PAI e dal PGR Paola Bertuccioli Emilio De Francesco del Dipartimento di Protezione Civile e Giovanni Menduni del Politecnico di Milano buonasera solo due parole per introdurre l'attività che ci presenterà il professor Menduni della Fondazione Politecnico di Milano questa attività entriamo nella fase 2 che parallelamente a quanto abbiamo visto per il rischio sismico si occupa della valutazione del rischio e della definizione degli scenari che poi sono quelli a base ai piani di protezione civile come anche è previsto dal codice di protezione civile per quanto riguarda il rischio da frane e dall'uvione ovviamente c'è una base di partenza molto solida che è quella delle aree individuate dai PAI e dai piani di gestione rischio alluvione dalle autorità di distretto ovviamente riportare quello a scala l'attività diciamo si focalizza su riportare questi dati alla scala locale del comune noi sappiamo quali sono le difficoltà di questo cambiamento di scala e inoltre per tenere conto di tutto quello che non può essere previsto da una pianificazione a scala di bacino che sia per motivi come diceva già nella presentazione Angelo Corazza che riguardano sia il fatto che non tutte le aree sono state mappate scendendo soprattutto di scala soprattutto sul reticolo minore per una mancanza di risorse sia il fatto appunto che ci sono delle criticità idrauliche che si creano a livello locale e che non possono essere appunto viste dalla pianificazione di bacino si è deciso il professore ci presenterà una prima possibile soluzione che è stata applicata al caso del rischio di alluvione quindi di un nuovo modello scusate per la valutazione della pericolosità a scala sempre di bacino e che prevede una prima applicazione che ha visto una prima applicazione nella regione Puglia ma che è ancora insomma da testare e che è solo l'inizio diciamo di un percorso che ci dovrà dare delle indicazioni e linee guida a livello comunale per una definizione più specifica dei scenari a base dei piani di protezione do la parola al professore grazie 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 Paola grazie Angelo rapidamente avvio le slide allora F5 ok si tratta della 2.1 il cui criterio guida è di offrire ai comuni il miglior supporto alla pianificazione attraverso un approccio cooperante con quello già offerto dai PAI un approccio che offra le caratteristiche indispensabili di omogeneità metodologica che mancano nella situazione attuale facciamo un attimo un scusate ma ho fatto premuto qualcosa di sbagliato ok allora ragioniamo un attimo sugli strumenti a disposizione di un sindaco per svolgere diciamo per avviare l'analisi di modellazione degli scenari di rischio in realtà i dati che vengono dai PAI e dai TGRA come è stato ricordato poco fa sono come dire condizionati da dei fattori inerenti che sono in buona sostanza un'azione dispiegata per livelli di pericolosità ora fuori contesto ma pensiamo al PONO che nacque con una modellazione esclusivamente sull'asta principale e che poi progressivamente è stata estesa è stata estesa a parte del resto del bacino sono basati su scenari isofrequenti perché il concetto di pericolosità è un dato probabilistico quantitativo che è innescato ad esempio da una frequenza attribuita a uno scenario di pioggia quindi si assume che la pioggia centennale venga prodotto verso la catena idrologica gli effetti al suolo centennali quando noi sappiamo che non sempre anzi diciamo abbastanza raramente negli eventi idrogeologici questo si verifica si presume che le condizioni al contorno si conservino in corso di evento di che al suolo i grovigli di automobili non si formino e che cambiano e mutano e condizionano la propagazione della piena e così le luci dei ponti eccetera che le opere idrauliche siano invulnerabili e perfettamente gestite un iter approvativo abbastanza lento da dare garanzia ai cittadini visto che il PAI barra PGRA tocca legittimi interessi di cittadini e quindi per una questione di tutela sono processi che prevedono fasi di osservazioni eccetera e procedimenti il più possibile oggettivi e quantitativi in modo da garantire equità e poter resistere a ricorsi per un sindaco che deve affrontare la pianificazione di protezione civile lui avrà bisogno di omogeneità e completezza sul territorio pensiamo al caso delle aree bianche cosiddette cioè le aree che non sono macchiate sul PAI e che solo alcune autorità riporta in uno speciale strato informativo se si tratta di aree non mappate o di aree prive di rischio o comunque con rischio trascurabile al contrario del PAI che soffre della paura di una ipervincolazione al territorio il sindaco ha bisogno di operare al contrario sulla base di un principio di precauzione e quindi nessuna preoccupazione non è per un eventuale ampliamento dei poligoni perché non si toccano legittimi interessi la possibilità di aggiornamenti tempestivi cioè di avere una mappatura che possa essere rinfrescata con l'esperienza di eventi recenti e un approccio necessariamente vincolato al funzionamento perfetto delle opere idrauliche ma che anzi evidenzi le caratteristiche della vulnerabilità intrinseca del territorio se noi volessimo fare così un gioco e mettere ai fini della certificazione e protezione civile con la blu indicare un po' il campo di impiego della modellazione matematica di tipo PAI-PGRA e addestra le effettive necessità di supporto conoscitivo ai fini della pianificazione e protezione civile noi vediamo che come dire il PAI-PGRA offre un supporto imprescindibile consistente garantito certificato irrinunciabile ma che da una parte diciamo è orientato molto al governo del territorio e quindi non è finalizzato alla pianificazione dell'emergenza dall'altro rispetto ad alcune delle esigenze che noi abbiamo visto allora noi abbiamo deciso di interpretare lo spartito che ci è stato dato dal Dipartimento affiancando ad una serie di altri strumenti la mappatura della suscettività del territorio per il dissesto idrogeologico è un approccio basato sui dati storici sulle osservazioni la sua qualità e la risposta che offre è connessa direttamente è imperniata è incentrata è basata sulle osservazioni produce mappe su tre classi è più una di suscettività diciamo nulla o trascurabile è un dato che non offre una probabilità di occorrenza come la pericolosità ma un indice quantitativo di propensione di quel sito a essere oggetto del fenomeno non è una pericolosità dei poveri no? dire ma sai io non posso stare a studiare tutte le ramificazioni i singoli i singoli cose non ho tempo non ho soldi non ho energie e allora mi arrangio con un succedaneo del caviale no qui noi rivendichiamo con forza questo approccio come un approccio cooperante concorrente nel senso positivo del termine con quello esistente l'avvio della costruzione di uno scenario è fatto con due oggetti sul tavolo che hanno diversa rilevanza istituzionale diversa metodologia ma che come dire si integrano in qualche modo l'uno con l'altro quindi questo metodo produce omogeneità metodologica perché è un metodo che come dire in un colpo solo one shot copre un'intera diciamo area geografica ha un rapido aggiornamento perché il modello matematico è addestrato e addestrabile sulla base dei dati di nuovi eventi bene allora che cosa abbiamo fatto nel primo periodo abbiamo sviluppato il modello scusate il primo non c'entra nulla è un punto che è cascato qua mentre facevo il disperato copia e incolla di rimettere la presentazione nel nuovo formato allora abbiamo prodotto quindi partiamo dal punto 2 ho prodotto una versione 1.0 della mappa di suscettività per la Puglia abbiamo prodotto una bozza delle linee guida per l'uso della mappa di suscettività questo è avvenuto con un confronto esteso e con i cici regionali c'è Tiziana qua io la ringrazio per come dire la pazienza con la quale ha supportato e con tutti i dati che ci ha fornito che sono stati indispensabili per il lavoro abbiamo offerto tramite Antonietta Pedone che è qua presente che è uno dei nostri esperti junior un aiuto alla regione nel supporto ai cinque comuni pilota abbiamo svolto un confronto analitico di questi risultati con gli strumenti esistenti e ne abbiamo fatto una critica sulle performance e abbiamo individuato ovviamente le linee di sviluppo questa è una delle tavole prese da una delle presentazioni di Maria Antonietta in cui si vede proprio l'analisi puntuale che è stata fatta confrontando le mappe zona per zona con le mappe del PAI con gli eventi occorsi dove funzionano dove non funzionano perché non funzionano cosa si può fare e quant'altro nel secondo periodo stiamo pensiamo all'estensione del metodo alle 5 regioni del PON generando fondando costruendo un unico database ovviamente in sinergia con tutti gli strumenti del dipartimento e quelli in atto presso gli altri soggetti del LATI e quindi un unico database che offre un modello che possa essere soggetto a cicli simultanei di aggiornamento sia su base calendariale non so una volta ogni due anni una volta l'anno una volta ogni cinque anni sia avviene un evento epocale bene sulla base di quei dati tutta la mappatura di suscettività sull'area PON viene simultaneamente aggiornata ok cosa stiamo facendo operiamo su tre linee nel secondo periodo la prima cosa su cui stiamo lavorando è la costruzione di un modello digitale del terreno unitario per le cinque regioni del PON sappiamo che questa cosa non è semplicissima perché ciascuna regione ha operato diciamo con criteri non esattamente corrispondenti l'uno dall'altro per risoluzione spaziale per tipo di collaudo per metodologia usata e quindi ci stiamo creando il supporto indispensabile naturalmente sarà un database sarà un modello digitale che verrà i criteri di letteratura validato collaudato e messo a disposizione del dipartimento come prodotto PON la seconda linea riguarda i dati osservazionali mettendo conto per dire una parola orribile questo è l'aspetto che distingue attività da tutti gli altri metodi la numerosità delle osservazioni è intrinsecamente legata alle prestazioni del modello ora il tema della memoria storica qui ci sono come dire una serie di persone di riferimento per questo tema a partire parlo nell'ambito ATI IRPI il lavoro fatto da Fausto il lavoro su Floodcat fatto da Cima quindi diciamo è un tema che è successo Angelo che hai combinato è risorto allora tuttavia è un tema abbastanza abbastanza tuttora come dire negletto allora i PAI riportano sempre nel loro parlo dei PAI regionali riportano sempre nella loro directory scritto in aree storicamente inondate in realtà questi strati informativi sono abbastanza difficili da recuperare e da trovare qua io voglio ringraziare Massimo Morea dell'autorità di distretto dell'appenino meridionale che con diciamo un impegno notevole ci ha prodotto questa mappa della Puglia noi stiamo rivalidando queste analisi dei dati storici perché hanno una metadatazione molto molto carente qui accanto vedete come dire la scheda di un poligono e quindi stiamo cercando di dare un padre e una madre a ciascuno di questi poligoni per separare dall'acqua sporca di questi strati informativi che hanno un valore enorme in linea generale noi utilizziamo le rilevazioni Copernicus Emergency le schede tratte dalle ricognizioni fabbisogni ex decreto 93 e appunto le aree si tratta di dati molto di loro il cui mashup è abbastanza complicato anche da un punto di vista concettuale qua vedete per esempio una scheda una delle famose schede rosa verde delle ricognizioni dei commissari dove trovate nell'indirizzo scritto alla sesta riga la signora è defunta nel frattempo normalizzare sistemare queste cose è per noi importantissimo e stiamo facendo una ricostruzione una geolocalizzazione virtuale di tutte le schede l'ultima linea nei pochi minuti che mi rimangono alla termine dell'intervento ovviamente riguarda riguarda il modello il modello ha una forte vocazione geomorfologica la componente geomorfologica è quella più rilevante soprattutto per quello riguarda la distanza e l'elevazione rispetto al punto più vicino del reticolo qui vediamo appunto qui siamo in Emilia Romagna ma vediamo la vicinanza al reticolo di drenaggio e l'elevazione possa essere importante siamo sul Trebbia come avranno tutti i colleghi ampiamente riconosciuto bene su questo su definire metriche che consentono di connettere ogni punto al punto del reticolo e quindi dare un forte impulso al modello stiamo lavorando anche con la modellistica numerica abbastanza sofisticata quindi al termine del secondo periodo noi produrremo la versione 2.0 matematico il DEM ad alta risoluzione validato e collaudato per le 5 regioni del PON la georeferenziazione di tutte le schede sostenibile ex decreto legge 93 almeno per due migliori regioni oltre la Puglia tenete presente che noi stiamo nelle ordinanze per ogni scheda cercando di capire se si tratta di frana se si tratta di fulminazione se si tratta di vento se si tratta di alluvione con un lavoro paziente ehm vedremo l'analisi e l'integrazione delle inondazioni storiche nel modello e applicheremo il nuovo modello alla Puglia e quantomeno a un'altra regione ma noi confidiamo ad altre due regioni e con due minuti e cinquanta di vantaggio grazie per l'attenzione grazie puntualissimo e allora adesso è prevista una pausa coffee break vi prego di siccome protezione civile aveva previsto questa pausa se mi autorizzano a saltarla molto diventa fluida chi vuole chi vuole open bar va bene perfetto e allora continuiamo con gli interventi chi vuole può andare a prendersi il caffè fuori nella solita sala e passiamo allora agli interventi relativi agli scenari di evento e di rischio Andrea Duro e Marco Falsacappa del Dipartimento di Protezione Civile e Pasquale Versace dell'Università della Calabria grazie Quindi do subito la parola a Dea Andrea Duro per gli scenari di venti e di rischio. Allora, buonasera a tutti. Ci avviamo verso la conclusione di queste due giorni molto impegnative, molto intensa, ma anche ricca di spunti di riflessione e di indicazioni tecniche. Parliamo dunque di un'attività molto importante che è quella dell'identificazione e valutazione degli scenari di venti e di rischio. La valutazione degli scenari di venti e di rischio è di rilevanza strategica per le attività di protezione civile. In primo luogo per la vinificazione di emergenze, ma anche per altre attività, per cui per esempio la valutazione del rischio residuo post-evento. Queste attività sono da anni al centro dell'attenzione di Camilab, che è il centro di competenza del Dipartimento di protezione civile, anche nell'ambito di precedenti accordi di collaborazione. E particolare attenzione viene posta nell'ambito della ricerca di Camilab alla vulnerabilità, intesa non solamente dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista sociale, anche in linea con quelle che sono le recenti tendenze e gli orientamenti scientifici. A questo punto, quello che possiamo anche dire è sostanzialmente che quello che viene presentato oggi è un contributo che viene offerto alle regioni, all'attenzione delle regioni per l'attività, e il contributo tecnico che viene posto all'attenzione delle regioni, che poi nell'ambito delle loro prerogative, nell'ambito delle loro attenzioni per prerogative, avranno modo di effettuare le loro valutazioni. Lascio dunque adesso la parola al professor Versace, che è il coordinatore del Camilab, che illustrerà sinteticamente le attività fin qui svolte. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Forse conveniva che la relazione la facevo al bar, per questo l'indice di affollamento. Diciamo, scenari di evento e scenari di rischio sono parti essenziali della pianificazione, della pianificazione di emergenze. Partiamo dagli scenari di evento. Scenario di evento, io almeno l'intendo in questo modo, esiste la forzante, cioè la pioggia, esiste il fenomeno che per esempio il fiume che si gompia, ma questo non è un evento. L'evento è il fatto che questo fiume si gompia in un contesto in cui per esempio i margini sono fatiscenti oppure sono troppo bassi, e si ha l'esondazione del fiume e l'inondazione dei terreni circostanti. Lo scenario di evento è il passo ancora successivo, quando questa esondazione impatta con il costruito, con il distrutto, eccetera. Allo stesso si può dire delle frane, ma c'è poco tempo e andiamo avanti. Facciamo questo esempio di scenario di evento. Questa è la fiume Rada Lalibi, riconoscete lo stretto di Messina, quindi siamo dentro la città di Reggio Calabria. Guardiamo alcune cose. Qui non si capisce subito di che si tratta, ma quel tratto di sfumare, vedete la fiumara, cioè l'autostrada passa sotto la fiumara, in questi diversi punti, cioè ci sono due, tre punti in cui questa fiumara e l'altra fiumare vengono sottopassate dalle autostrade. Esistono tutta una serie di discontinuità di argini, cioè l'argino si interrompe per lasciare transitare o perché c'è l'accesso a qualche zona abitata laterale. Ci sono, vedete qui, in questa zona, degli argini rotti e danneggiati. Ci sono delle situazioni di fenomeno che ha fatto collassare le opere trasversali, ci sono discariche in Aldeo, ci sono addirittura attraversamenti a raso. Non stiamo parlando di una fiumara che sta in un posto sperdito, ma in una fiumara che sta esattamente al centro di Reggio Calabria. Vi potrei far vedere 50 di queste foto. Allora, scenario di evento per noi è rappresentare questa situazione. Qui vedete questa cartina che abbiamo disegnato in cui c'è un primo aspetto di che cosa ci interessa dal punto di vista della protezione civile di un'azione circa l'evento. Non ci interessa niente il periodo di intorno dell'evento perché noi stiamo parlando di un evento che si dovrà verificare, che quindi ha probabilità 1 rispetto al quale ci prepariamo. Ma a noi interessa l'intensità dell'evento, è un indicatore ottimo il prodotto velocità per la spazza e questi confini che voi vedete, quelli lì azzurri, sono confini relativi alla capacità delle persone di restare in piedi, i bambini, le persone, gli atleti e così via, mentre gli intervalli 3 e 7 sono relativi alle capacità della struttura di leggere, quindi edifici in muratura, di leggere a quest'intensità. Dopodiché, andando molto veloce, si possono localizzare tutta questa serie di cose, ve le leggo solo, cioè che ci sono i sottopassi, vegetazione in alveo, arginature che hanno una discontinuità altimetrica oppure una discontinuità. Ci sono punti dove avviene sempre esondazione o c'è la rottura dell'argine, ci sono discariche in alveo, ci sono fenomeni di erosione, opere di approvvigionamento idrico in alveo, ci sono fenomeni di pensilità, assenza completa di tratti arginati, sponde non protette, e insomma diciamo queste altre 2-3 cose che potete guardare da soli, e che sono la descrizione e la definizione di quale è lo scenario di evento. Cioè lo scenario di evento deve identificare una serie di questi punti che noi indichiamo come punti critici, intesi come punti in cui il fenomeno può cambiare il suo aspetto, può cambiare la sua direzione, può cambiare la sua intensità. Su questa carta noi mettiamo anche in genere i punti di osservazione che si possono avere, cioè dove io posso fare un'osservazione strumentale, un'osservazione visiva del punto. Adesso direi, vado un po' più veloce, si possono fare delle schede per i vari punti, ma non ha molta importanza. Qual è il ragionamento? Questo tipicamente io lo faccio per una portata che so con 200 anni come periodo di ritorno, con 500 anni come periodo di ritorno. Però siccome ci troviamo in una fase di gestione dell'emergenza, conviene prevedere anche che i fenomeni e gli eventi possano essere più complessi. E quindi noi per esempio abbiamo sviluppato altre ipotesi in cui la portata non è con il 200, ma il 30% in più, o addirittura il 100% in più, che è ancora nel modello perché non è stata prevista qualcosa, perché è stato fatto qualche sbaglio nella valutazione della portata. Oppure ci sono fenomeni puntuali, si rompe un'argine, c'è un'occlusione parziale totale di un attraversamento e così via. E quindi io posso immaginare tutte le situazioni, le situazioni che voglio, e qui vedete è stata fatta la sintesi di questa parte. C'è la parte centrale, che è quella che è relativa soltanto alla portata di 200 anni, e c'è quella che è l'inviluppo complessivo, queste macchie rosse che vedete, che come da un punto di vista di estensione territoriale aggiungono moltissimo. Dov'è che aggiungono moltissimo? Aggiungono moltissimo rispetto all'intensità del fenomeno e dell'evento. Se voi vedete, questa è una mappa, se considero è lo stesso trattino, lo stesso rettangolino che sta in alto, a sinistra considero la Q200, nel secondo caso considero l'intensità minori. Ovviamente tutti i colori passano dal celeste, bruetta e così via, che sono intensità minori, a valori del campo del rosso, del rosa e così via, che sono intensità nettamente maggiore. Quindi questa è la tipologia di carta di scenario di evento che proponiamo, in cui essenziali sono le identificazioni dei punti critici. Poi il fatto di fare un U per H, dipende da che modello utilizzo, posso fare delle cose più semplici, ma non abbiamo tempo di vedere. Andiamo invece agli scenari, agli scenari di rischio. Noi costantemente, come un po' fanno tutti, teniamo aggiornate dall'analisi degli eventi catastrofici che si sono verificati. Questi sono gli eventi dal 2004 ad oggi, abbiamo contato 191 vittime. Queste figurine fanno capire abbastanza bene, che nel 18% è gente morta in caso, nello scantilato, anche perché è stato un piano basso rispetto al livello, oppure travolto da una piena mentre era in macchina, oppure ancora travolta dalla piena mentre era a piedi e così via vedete. Ci sono questi 10 casi tipici e la gran parte, se andiamo a torta, sono R2, R1, R2 ed R3, cioè fenomeni legati a piene che o entrano dentro le case o travolgono le persone che stanno a piedi o stanno in macchina. C'è quest'altra macchia, questa qua indicata ad R6, questo pezzo di torta abbastanza grosso, che invece sono le persone che vengono vittime di fenomeni di frana che li colpiscono mentre sono nelle case. Allora, com'è cercare di modellare questo fatto? Abbiamo messo a punto, penso sarà un paio di anni, questo modello che abbiamo trovato questo acronimo diabolico per indicarlo in cui abbiamo previsto una serie di livelli che ovviamente man mano che sale di livello o una risoluzione molto più puntuale però ovviamente il modello diventa più complicato. Faccio vedere le cose delle cose veloci partendo dal livello più sofisticato. Prendiamo un pezzo di territorio, quel riquadro che vedete a destra, su questo identifichiamo una serie di oggetti, se ne parlava anche stamattina di oggetti. Che cosa sono gli oggetti? Un singolo edificio oppure un singolo pezzo di strada o un omogeneo oppure uno spazio aperto che abbia caratteristiche anche somogenee. E ne possiamo identificare migliaia ovviamente già in quel piccolo riquadro. Potremmo addirittura identificare oggetti diversi a seconda se in un edificio stiamo al piano terra e piani più alti rispetto ad un uno come è facilmente intuibile. Allora, per ognuno di questi oggetti noi definiamo dei fattori. Questi fattori sono l'evento, la capacità della persona, le caratteristiche delle persone, il luogo in cui ci si trova e così via. Questo accenno molto veloce a vedere che ci vorrebbe tempo. Per ognuno di questi sei fattori che abbiamo identificato assegniamo degli attributi, guardiamo quello lì in basso a sinistra. L'età delle persone dipende, cioè le caratteristiche delle persone sono indicate come attributi ovviamente letali, condizioni di la capacità di comprensione della lingua che ovviamente diventa un problema sempre più rilevante, il grado di preparazione complessiva che uno ha. Come funziona questo giochetto? Facciamo un esempio numerico con un'algebra assolutamente banale. Ad ognuno di questi attributi un suo valore compreso tra zero ed uno. Vedete, man mano si stanno riempendo di piccoli esagoni con dei numeri. Sulla base di questo con una semplice media pesata attribuisco il valore al fattore. quando vado a considerare il valore cioè sei fattori ognuno dei quali ha un suo valore anche qui con un'algebra banale attribuisco a quell'oggetto valore 0,48 indice di vulnerabilità. Che cos'è questo indice di vulnerabilità? È legato solo al danno che può subire una persona che si trova in quell'oggetto. Quindi se una singola persona si trova in quell'oggetto che stiamo considerando vuol dire che c'è una vulnerabilità individuale pari al 0,48 cioè c'è 50 probabilità su 100 di subire un danno. Se vogliamo fare e questo diciamo è la mazza se vogliamo tener conto del rischio o in questo caso possiamo dire anche del danno visto che H è uguale ad 1 complessivo dobbiamo tener conto della quantità di persone che ci abitano quindi dell'affollamento possiamo fare diverse ipotesi che unisco questi due indicatori vulnerabilità dell'individuo numero di persone che sono presenti dall'incrocio di questi due elementi c'ho la carta del rischio o c'ho la carta che può essere anche letta come carta del danno. Questa procedura non è così complicata come sembra però certamente richiede tempi e richiede qualche costo allora possiamo fare delle semplificazioni la prima semplificazione che possiamo fare è non andare a prendere oggetti così piccoli prendiamo oggetti più grandi ad esempio in una zona noi identifichiamo soltanto due oggetti gli edifici e i non edifici la scala di analisi che adottiamo sono queste linee che vedete che per esempio sono le celle sensuali perché? perché la cella sensuale ci dà una serie di informazioni che possono volerli mediamente per gli edifici della cella e per tutti gli spazi esterni della cella e quindi in pratica per ogni cella sensuale alla fine c'ho solo due oggetti cioè cambio proprio due ordini di grandezza come numerosità dell'oggetto l'altra cosa che posso fare è incominciare a semplificare riduco gli attributi riduco i fattori e quindi ottengo una configurazione come questa che vedete l'ottosimice e quindi in questo caso è un metodo speditivo più approssimato e il nostro studio ha riguardato proprio di vedere che semplificazione potevamo apportare senza perdere grande informazione rispetto allo schema generale però non vi trattengo su questo che è sostanzialmente irrilevante dovrei cercare di trasferire la logica qui diciamo sono alcuni risultati andiamo al livello 1 il livello 1 è quello di base quello che secondo me dovrebbe ma penso secondo tutti noi dovrebbe essere prestati i piani di protezione civile a livello comunale cioè che è il livello 1 di analisi che riguarda soltanto gli oggetti per i quali la vulnerabilità delle persone è elevata o molto elevata e che sono banalmente i seminterrati i sottopassi le zone la velocità il prodotto viacca può essere molto forte la gente viene portata via dove ci sono cazzi fatiscenti che possono essere spazzate via dalla corrente oppure ci sono delle strutture strategiche essenziali per la vita delle persone gli asili gli ospedali e così via allora si può predisporre con lo stesso criterio una mappa del tipo di quella che vedevamo non mi sto a dilungare molto guardiamo soltanto il caso sulla destra cioè io prevedo soltanto una classe di altissima vulnerabilità per questi oggetti che ho elencato prima faccio una valutazione speditiva dell'indice di affollamento attribuisce una vulnerabilità ed un possibile un rischio ed un danno possibile ai vari oggetti in modo molto banale ecco questo risultato complessivo questo vedete dal livello 3 al livello 2 diventa tutto un po' più omogeneo perché ho perso informazioni a livello 3 semplifico mi vado a concentrare solo sugli oggetti che cosa pensiamo di fare noi su questo allora certamente di sviluppare questi tre livelli in alcuni casi che sono all'incirca due per ognuna delle cinque regioni considerate abbiamo identificato per quasi tutte le regioni quali sono questi centri lavoreremo da capire se lo faremo alla scala comunale oppure alla scala di frazione però diciamo questo è il meccanismo l'idea è che il livello 1 poi ne discuteremo dovrà essere in qualche misura un must il livello 3 probabilmente va riservato a quelle zone di minore sostenibilità di rischio in cui ho bisogno di un grande livello di informazioni quanti minuti c'è ancora? ancora c'erò per 4 minuti sicuro allora ci troviamo gli orologi sono sincronizzati vi faccio vedere velocemente delle cose diciamo mentre quello che vi ho fatto vedere finora è come dire abbastanza consolidato queste cose vi faccio vedere adesso sono in fase un po' preliminare ma prima riguarda come si fa questa cosa per le frane allora anche qui vi faccio vedere un esempio c'è questo paese che conosciamo benissimo che i geologi che lavorano con noi hanno studiato per anni quindi abbiamo tutto quello che si può sappiamo tutto quello che si può sapere di queste frane anche qui abbiamo semplificato molto anziché stare a fare una grandissima distinzione tra le tipologie di frane abbiamo detto c'è un indice di un indice generale che mi dice che questa frana è pericolosa di intensità intro significa intensità della frana che dipende da che cosa da se la frana è grossa e se la frana è veloce incrociando questi due fatti ovviamente una frana grossa è veloce ha una pericolosità nettamente maggiore può produrre un danno di un'obbligamente piccola e legge la stessa cosa si può fare per le frane in roccia ma non è importante qui si spiega un po' meglio come ma non ci interessa diciamo alla fine noi semplifichiamo questa carta giallo aranciolo e rosso tre livelli di intensità della frana le riportiamo la figura a destra sul centro abitato di questi diversi edifici e quindi prospettiamo anche qui una matrice su cui non vi sto a far perdere tempo comunque di fattori e di attributi e qui questi sono gli oggetti qui sono tutti gli edifici della zona che io considero mi calcolo un indice di vulnerabilità vedete i colori non so cosa riusciate a vedere però diciamo ci sono dei verdi dei gialli e dei rossi che sono indici con un indice sono edifici con indici di vulnerabilità crescente poi chiaramente c'è un questo è facile da verificare essendo edifici un indice di affollamento dei vari edifici e il risultato finale è questo edifici questo per esempio è una cosa assolutamente preliminare però lo trovo stimolante in una giornata come oggi capire che poi certi fatti vanno ad integrarsi e quindi certamente un'analisi della vulnerabilità degli edifici fatta rispetto ad eventi come frane inondazione una cosa peraltro ampiamente studiata può avere delle similitudini come dire metodologiche quello che è molto interessante che abbiamo sentito che abbiamo sentito stamattina è che si conosce circa la fragilità degli edifici e quant'altro anche qui in questo caso è molto semplice ci sono dei fattori ci sono degli attributi sulla sinistra quelli che abbiamo identificato per le sulla destra quelli che abbiamo identificato per le inondazioni e su questo ovviamente si tratta di lavorare che è semplicemente un discorso che noi nel corso di questo secondo anno proverimo ad affrontare io diciamo sono andato abbastanza veloce ho dovuto tagliare una serie di cose quindi rimane quest'ansia e questo desiderio di volerne sapere di più e quindi qui c'è l'indirizzo mail su cui caricherò però diciamo la settimana prossima carico la versione complessiva della presentazione che si sarebbe dovuta fare se qualcuno è interessato può consultare grazie passiamo agli ultimi interventi della giornata livelli standard interventi non strutturali Emilio De Francesco e Andrea Duro ancora del Dipartimento di Protezione Civile e Chiara Franciosi della Fondazione Cima prego allora anche qua introduco molto brevemente l'intervento più che altro allora nell'ambito del progetto PON uno degli obiettivi era quello di individuare dei criteri per cioè stabilire dei criteri per individuare degli interventi non strutturali necessari per raggiungere un livello standard minimo di riduzione del rischio questo perché in realtà l'abbiamo già detto l'ha già anticipato Angelo nella presentazione globale in cui praticamente la riduzione del rischio non l'abbiamo ovviamente misure strutturali non strutturali le misure strutturali però hanno tempi molto più ampi soprattutto anche i finanziamenti necessitano di finanziamenti ingenti che spesso tardano ad arrivare nel frattempo la zona e il territorio rimane sguarnita e quindi bisogna implementare delle misure non strutturali per garantire una certa sicurezza di rischio l'obiettivo di questo ambito di questa misura è quello di creare un livello standard unico per tutti i territori quindi l'obiettivo in questo caso dell'ATI in particolare della fondazione CIM è quello di individuare dei criteri e poi delle linee guida per poterli implementare il territorio ovviamente all'ATI c'è un altro obiettivo nel PON che è quello per le aree a minor sostenibilità del rischio queste sono aree dove gli standard minimo cioè l'obiettivo minimo non basta qua bisogna alzare al massimo le misure non strutturali perché diciamo sono aree in cui i tempi dell'evento i tempi di risposta del sistema non sono compatibili comunque passiamo la parola a Chiara così ci dice cosa non fa buongiorno a tutti il mio compito come è stato detto è quello di presentare una parte diciamo delle attività che è stata svolta da fondazione CIM proprio in merito al livello standard minimo di riduzione del rischio ci tengo a precisare che questo lavoro è stato svolto a più mani o meglio ancora a più competenze poiché abbiamo ritenuto che per avere una visione allargata ed integrata del territorio e quindi delle opere non strutturali delle misure non strutturali che dovevano essere messe in atto per la definizione della mitigazione del rischio era necessario non solo avere delle competenze ingegneristiche legate all'idraulica o all'ambiente ma legate anche alla pianificazione territoriale e legate alla geologia quindi come vedrete questa presentazione cercherà di presentare in modo ampio le misure non strutturali e la loro definizione è stato detto appunto che l'obiettivo della nostra attività è stato proprio quello di definire le misure non strutturali cosa si intende per misure non strutturali in realtà è già stato ampiamente definito sia da Eva che da Emilio e quindi sono comunque le ripeto brevemente sono le misure non strutturali legate alla protezione civile non solo però le misure non strutturali che possono essere inserite all'interno dei piani di protezione civile ma in generale le misure non strutturali che possono essere adottate da un determinato territorio comune o contesto territoriale l'obiettivo abbiamo detto è la definizione o meglio l'implementazione di un livello di riduzione del rischio come è stato già detto precedentemente uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare spesso è che nelle regioni obiettivo ma in generale in tutta Italia non abbiamo una condizione uguale omogenea del rischio quindi è necessario cercare di rendere omogenea quantomeno questa situazione dove quando o meglio ancora le attività o meglio i risultati dell'attività che stiamo portando avanti dovranno intervenire è stato detto precedentemente prima dell'opera mentre l'opera viene costruita poiché probabilmente durante la costruzione dell'opera cambieranno le condizioni di rischio successivamente alla costruzione dell'opera perché probabilmente continuerà anzi sicuramente continuerà a esistere un rischio residuo ma anche e questa è una parte che è molto importante sia per le regioni sia poi successivamente per i comuni dopo l'evento poiché riteniamo che tutti ritengono che le condizioni di rischio cambieranno in seguito ad un evento e la 5 scusate questa attività potrà sicuramente offrire aiuto e supporto alle regioni in questo senso ci interessava in particolare più che fare dei ragionamenti quantomeno all'inizio teorici farvi un esempio pratico di quello che dovrebbero essere i risultati concreti applicativi dell'attività 5.1 in particolare vi vogliamo mostrare un esempio che è legato ad Arenzano un comune della provincia di Genova ed un evento idrogeologico di una frana su una strada statale questo evento nel 2016 cos'è successo c'è stata questa frana la strada è stata interrotta e il comune di Arenzano ha messo diciamo mostrando una certa capacità e prontezza nell'affrontare il nuovo rischio che si è venuto a creare sul territorio ha adottato immediatamente un sistema di monitoraggio speditivo per verificare gli eventi che si potevano verificare proprio in quel contesto di frana e quindi di strada interrotta questo monitoraggio questi dati derivanti dal monitoraggio si sono andati a parlare diciamo così con la pianificazione di emergenza creando quindi leature all'interno del piano di emergenza e inoltre hanno anche come dire migliorato l'allertamento nel senso che la strada veniva chiusa anche grazie ai dati di monitoraggio derivanti appunto dalla nuova strumentazione ed infine durante diciamo tutto questo periodo il comune ha capito anche che era necessario nuovamente formare gli operatori e soprattutto informare la popolazione quindi questo ci sembrava un esempio abbastanza come dire evidente di quello che dovrebbero essere i risultati della nostra attività arrivo adesso subito a quello che abbiamo fatto durante questo anno di studio e di attività volevo solo fare una metodologica rispetto a come ci siamo mossi e su quali diciamo livelli ci siamo mossi intanto abbiamo avuto necessità di ereditare la definizione di rischio che riguarda quindi prendendo in considerazione le diverse componenti e dimensioni del rischio che sono appunto la pericolosità l'esposizione la vulnerabilità e le capacità e questo è la capacità questo perché sappiamo bene che esposizione vulnerabilità e capacità sono esattamente le dimensioni del rischio che sono influenzate dalle misure non strutturali quindi dovendo identificare un set di queste misure è stato necessario quindi partire da questa definizione di rischio quali sono stati gli step che poi ci porteranno l'attività non si è ancora conclusa quindi quali sono gli step che ad oggi abbiamo portato avanti all'interno della nostra attività in primis è stato definire un framework di analisi vale a dire quel framework che ci ha consentito di individuare un quadro conoscitivo capire di cosa stavamo parlando di che tipo di rischio stavamo parlando successivamente abbiamo poi cercato di analizzare le necessità derivanti dal territorio e questo come si fa dal nostro punto di vista analizzare le necessità del territorio si individuano delle varie soprattutto abbiamo voluto identificare degli indicatori che ci consentissero di valutare questo rischio e le diverse dimensioni del rischio infine nel prossimo anno cercheremo di individuare quali sono quelle condizioni minime di implementazione delle misure non strutturali che consentiranno di definire un livello stando al minimo di rischio sul territorio chiaramente tutto questo deve essere valutato sulla base della tipologia dei fenomeni e banalmente dalle condizioni di rischio iniziale premopi analisi quindi dobbiamo capire di cosa stiamo parlando e come possono definire vulnerabilità capacità e esposizione diciamo abbiamo quindi iniziato a fare una review della letteratura sia nazionale che internazionale e ci siamo resi conto che se la definizione di esposizione tutto sommato è una definizione che nel scientifico viene declinata in misura diciamo uguale cioè c'è un certo accordo dal punto di vista dell'esposizione per quanto riguarda vulnerabilità e capacità non c'è un accordo meglio la comunità scientifica diciamo così può essere considerata come divisa nel senso che spesso si parla di vulnerabilità e di capacità nella stessa dimensione vale a dire la capacità viene considerata come una delle caratteristiche della vulnerabilità questo che vi sto mostrando è uno degli esempi uno dei modelli in cui che peraltro è anche un modello molto avanzato e molto accreditato a livello internazionale dove si può vedere come vulnerabilità e capacità si parlano e però sono proprio all'interno della stessa dimensione di rischio esistono poi degli altri modelli in cui è vero la vulnerabilità e la capacità vengono considerati in modo separato ma in questo caso si parla di capacità non tanto considerata come capacità di far fronte quindi della potenzialità di un territorio di un evento ma piuttosto come una capacità futura o futuribile e in particolare questi modelli sono usati quando si parla di climate change e quindi in prospettive appunto di adattamento o meglio ancora come dirò più tardi come diciamo capacità di resilienza di un determinato territorio ora da tutta questa analisi che abbiamo fatto la cosa che per noi è stata più evidente è che dovessimo considerare per forza separate la vulnerabilità e la capacità perché la vulnerabilità ci consente di analizzare il contesto iniziale da cui partire quindi ci consente di analizzare le fragilità territoriali mentre la capacità ci consente di capire se è come un sistema rispondere o può rispondere e quindi come dire valorizzare gli elementi di forza che gli elementi di forza che un sistema territoriale può avere e quindi come questi si possono essere ulteriormente rafforzati dalle misure non strutturali vediamo quindi più nel dettaglio più nel dettaglio quello che abbiamo quello che abbiamo considerato come vulnerabilità e capacità intanto abbiamo considerato la vulnerabilità dal punto di vista olistico cosa si intende per olistico immagino che più o meno tutti possano saperlo lo dico in pochi secondi la vulnerabilità quindi non viene considerata come la sommatoria delle dimensioni che definisce la vulnerabilità ma bensì come la loro o meglio ancora la vulnerabilità non viene considerata solamente come un elemento fisico quindi la vulnerabilità fisica di un determinato territorio degli edifici ma bensì si va a considerare la complessità del territorio quindi lo si considera dal punto di vista sociale economico istituzionale ed ambientale perché tutti questi fattori vanno a intervenire sulla fragilità del territorio un evento può andare a vero danneggiare abbiamo visto prima edifici chiaramente però è chiaro che una comunità può essere fragile anche da tanti altri punti di vista e questo definisce chiaramente un certo livello di rischio sul territorio ora la vulnerabilità quindi è multidimensionale quindi noi l'abbiamo considerata proprio dal punto di vista olistico dopodiché banalmente queste sono le caratteristiche che ormai vengono riconosciute a livello internazionale è dipendente dalla scala di analisi è definita dal territorio su cui noi stiamo andando a analizzare e cambia chiaramente nel tempo vediamo poi invece per quanto riguarda la capacità che è un elemento che per noi è assolutamente centrale e che sarà centrale poi per la definizione delle misure non strutturali allora abbiamo detto i vari modelli considerano la capacità una capacità diciamo nel tempo presente ed è quella che si dice la coppia incapacity quindi la capacità di far fronte nel tempo in cui avviene l'evento soprattutto i modelli che si occupano di climate change utilizzano la capacità adattiva ora visto che come ho detto prima la capacità adattiva in qualche modo ha come riferimento la resilienza e per tutto quello che è stato detto rispetto alla pone alla necessità di sviluppare misure non strutturali che in qualche modo incidano anche sulla resilienza per noi è entrale considerare la capacità come l'insieme della capacità di far fronte quindi nel momento attuale e la capacità futura futuribile la capacità che le popolazioni hanno di imparare dall'evento e eventualmente adattarsi e quindi come dire integrare al loro interno eventuali misure non strutturali che andiamo a implementare vediamo quindi come abbiamo quindi fatta questa review definita le diverse dimensioni vediamo come qual è il nostro framework di analisi quindi abbiamo un dato territorio territorio sarà come dire analizzato definito attraverso la pericolosità l'esposizione la vulnerabilità la coppia incapaciti e che definiranno il rischio ex ante vale a dire prima dell'implementazione delle misure non strutturali il nostro obiettivo è quello di definire le misure non strutturali efficaci come faremo per fare questo sarà necessario andare a analizzare andare a analizzare quali misure non strutturali andranno ad influenzare in modo positivo la coppia incapaciti e negativo nel senso per diminuire la vulnerabilità la vulnerabilità in questo modo avremo appunto un set di misure non strutturali efficaci ma abbiamo detto ed è questo perché mi interessava precedentemente definire la capacità adattiva abbiamo un nuovo strumento tra virgolette che è la capacità vale a dire come dicevo prima delle comunità di poter implementare assumere a sé delle misure non strutturali attraverso questa capacità adattiva noi andremo a leggere le misure non strutturali efficace che in qualche modo diventeranno misure non strutturali efficienti ora non abbiamo considerato chiaramente questa è una definizione imprecisa perché per efficienza sappiamo dobbiamo considerare anche la parte economica però in qualche modo per noi diventano efficienti perché il tempo in cui queste misure potranno essere assunte dalla collettività diventa minore quindi è come dire un risparmio di tempo e in qualche modo anche una volta quindi definite le misure non strutturali efficienti andremo quindi a proporle nelle linee guida per le regioni e si suppone che implementandole queste portino all'uniformazione del rischio sul territorio facendo lo standard minimo di riduzione del rischio dunque una volta definito il framework di analisi e quindi definite le diverse dimensioni del rischio e i quali soprattutto considerare abbiamo detto dovevamo capire come valutare queste varie dimensioni e quindi definire le variabili da analizzare soprattutto anche gli indicatori che consentissero una valutazione di queste variabili l'elemento l'altro elemento che chiaramente è necessario in questo tipo di processo logico è quello di capire se una volta che abbiamo individuato le variabili e le dimensioni sono anche popolabili e fattibili allora vediamo cosa abbiamo quindi individuato variabili seguendo lo schema che ho illustrato precedentemente per cui la vulnerabilità è multidimensionale quindi per ciascuna dimensione della vulnerabilità abbiamo individuato le variabili sociali che quindi ci dicono ci danno la dimensione della fragilità sociale del territorio che stiamo prendendo in analisi le variabili fisiche le variabili economiche che ci danno invece la dimensione della fragilità della struttura economica quindi per cercare di capire quanto dal punto di vista economico le variabili ambientali che ugualmente ci daranno la dimensione di quanto verrà danneggiato l'ambiente e di quanti danni eventualmente questo ambiente danneggiato potrà propagare sul territorio e infine le variabili istituzionali che ugualmente partono dal presupposto che ci dovrebbero indicare se un'organizzazione è particolarmente debole e quindi se ha una preparazione di personale se c'è una reale organizzazione istituzionale infine abbiamo detto vulnerabilità e variabili definite passiamo alle variabili di capacità abbiamo detto la capacità ci dovrebbe dare una una diciamo così più ampia del territorio ieri se non sbaglio si è parlato in diverse occasioni di gestione del territorio e infatti questa per noi diventa una variabile che ci dà una dimensione che ci aiuta a capire se un territorio sarà capace più o meno di far fronte nel presente o nel futuro ad un determinato evento infatti abbiamo considerato quindi la gestione del territorio la capacità economica che ci dice se un territorio è preparato dal punto di vista economico di nuovo ieri si parlava dell'importanza dei fondi economici per far fronte ad un determinato evento la capacità sociale che ci dà la dimensione della solidarietà e della solidità della struttura sociale di fronte ad un evento e quindi la capacità di reagire di ripendersi rispetto ad un evento ed infine la capacità la capacità istituzionale che è definita dalle diverse misure che ci dice se un'istituzione sarà più o meno in grado di far fronte ora in particolare mi volevo concentrare sulla presenza di un sistema di monitoraggio a livello regionale e locale per farvi capire quanto queste variabili poi andranno ad influenzare le misure non strutturali eventualmente da proporre alle regioni in particolare mi concentro brevemente su una misura ad esempio non strutturale che potrebbe rispondere a questo deficit di capacità rispetto agli strumenti di monitoraggio e stiamo facendo un'analisi rispetto agli strumenti di monitoraggio speditivi che potrebbero essere ad esempio suggeriti alle regioni vedete abbiamo fatto una scheda vado un po' veloce perché ho finito il tempo diciamo una volta definite le variabili le varie variabili che definiscono la vulnerabilità e la capacità grazie all'aiuto degli esperti PON junior siamo come dire analizzato loro anzi hanno analizzato se queste variabili fossero effettivamente presenti se si potesse iniziare a popolare il database costruite come vedete in realtà siamo riusciti abbiamo capito che stiamo andando nella direzione corretta perché comunque stiamo andando molte delle variabili individuate sono presenti sia a livello nazionale che a livello regionale ora per chiudere e per ritornare come dire al punto iniziale del perché abbiamo fatto tutto questo lavoro siamo arrivati al punto di capire che esistono delle variabili e delle dimensioni che possono essere popolate il passo sarà selezionare il set finale di indicatori che ci consentirà di leggere il territorio sulla base soprattutto della vulnerabilità e delle capacità sempre tenendo in considerazione la differente tipologia dei fenomeni e questi elementi letti attraverso la capacità adattiva ci consentirà quindi di definire quelle misure strutturali efficaci e efficienti per dare appunto alle regioni uno strumento che gli consenta di individuare le misure non strutturali capace di portare il territorio comuni ad un livello standard minimo di rischio grazie grazie Chiara visto che abbiamo un po' di tempo pochissimo 10 minuti se c'è qualche domanda o richiesta di chiarimento intanto inviterei Italo Giulivo per la conclusione dei lavori ci sono domande non vedo mani alzate allora andiamo a chiusura di queste due giornate io come consiglio nazionale che ringrazio il dipartimento di protezione civile per aver scelto questa location nel CNR in particolare ringrazio il capo dipartimento Angelo Borrelli Italo Giulivo e tutti i partecipanti in particolare tutti i partecipanti ovviamente della protezione civile ma anche delle regioni che ieri hanno dato un contributo alla discussione e poi ai due gruppi di lavoro quelli del CNR quindi un autoringraziamento e al fondazione Cima e tutti i partecipanti dell'altra cordata e do la parola a Italo per la chiusura dei lavori grazie Paolo è solo un doveroso saluto del workshop che è stato intenso spero che sia emerso l'impegno profuso da parte del team che ha lavorato su questo PON desidero ringraziare ovviamente il CNR per l'ospitalità desidero ringraziare della coesione territoriale che ci ha dato l'opportunità finanziando il PON di protezione civile di fare questo ampio dibattito che credo rappresenta un momento di reale crescita della capacità istituzionale e delle competenze di tutto il sistema di protezione civile e gli obiettivi del PON sono ambiziosi ma almeno per quanto mi riguarda credo che la folta partecipazione di questo workshop che è stato intenso pieno di contenuti ci fa ben sperare che alla chiusura del PON e nei successivi momenti di incontro in cui si entrerà ancora di più tagli di quello che oggi abbiamo passato semplicemente in rassegna consentirà a tutto il sistema di protezione civile di essere realmente più resiliente che era lo specifico obiettivo che ci eravamo proposti grazie a tutti per la vostra partecipazione grazie a tutti 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 grazie a tutti